Ma è uno che abbiamo pubblicato sul sito o che hai visto sul log? Ho visto, l'ho pubblicato nelle stories Fede Ah, sì, sì, sì Sulle note, quello che hai fatto, che hai messo nelle stories Fede Quale hai messo Fede nelle storie? Sì, sì, l'ultimo, penso l'ultimo Abbiamo fatto Ibex Lack, l'hai fatto con 5 pizze Quelle con l'eccentrica e la concentrica, mi sembra Sì, perché prima facevamo, addirittura, top set Poi scaricavamo il 20%, facevamo due drop E dopo facevamo 6 max rep con 6 secondi di negativa Drop del peso e max rep con 6 secondi di positiva Però praticamente facilità che ne dovevamo andare a casa Sì, sì, infatti No, ma io calcolo in realtà l'allenamento di Fede Perché ci siamo divisi perché io sull'Hack sono saturo Cioè proprio non ce la faccio più Ma infatti una cosa che volevo chiedervi Siccome voi, comunque vi allenate insieme Allora, ma non è su quello, non è limitante Nel senso che, cioè tu vedi Io per alcuni lavori che mi dai tu Ludo Non potrebbero accompagnare un allenamento Perché non riuscirei a rispettare i tempi di recupero O meglio, lui aspetterebbe troppo per poi far la serie Giusto? Sì, allora ti dico Molte delle cose che impostiamo Le impostiamo proprio per far fonte a questo problema Nel senso che comunque non utilizziamo schemi Che avevamo uno schema infatti per il dorso Stretchers sul lat triangolo Che era troppo, quindi lo facevamo in due carruvole diverse Alla fine E quando ci accorgiamo che è troppo tempo Sì, sulle gambe in genere non è un problema Perché anche se recuperi di più Insomma, con le batoste che arrivano Sì, sì Cioè quello che recuperi, recuperi Non hai veramente mai recuperato Quindi No, sulle gambe ci sta E la cosa è che Ecco, ogni tanto differenziamo Nel senso che adesso gambe abbiamo cambiato Perché io, come ti ho detto Sull'axon saturo E proprio mi dà troppa botta Troppa botta anche un orale in generale E al ginocchio l'ultima volta mi aveva dato fastidio E avevo sentito una schiccheretta Quindi Ormai sto proprio frenato psicologicamente pure Nel senso che lo faccio solo col pensiero Non devo farmi male Capito? Quindi ho detto Senti, a canna E anzi me l'ha detto proprio Fede Ho detto Vabbè, ma mettici il pendolo a sto punto Gli ho detto Sì, no Mo ci metto il pendolo Quindi l'ultimo allenamento Lui ha fatto l'ac E io ho fatto il pendolo Poi Abbiamo fatto le carli insieme E poi il resto insieme Il resto insieme Il resto insieme Sì, 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 sì Comunque ci sta qualche volta Lore che qualche esercizio Facciamo differente Sì, sì, sì No, ma era un dubbio Infatti ci ho pensato Ho detto Cavolo, però Perché ho detto Guardate la mia scheda Ho detto Cavolo, però se io dovessi avere Un compagno allenamento Lo posso avere solo in certi allenamenti Sì Ad esempio sulle gambe Adesso non potrei averlo O meglio Potrei averlo Però Lui recupererebbe di più Oppure Dovresti farlo In un contesto Dove hai Magari due presse Dove hai Due x-quot Cosa qua improponibile Anche questa cosa Noi per esempio La pressa è differente Eh, vero Io uso l'hammer Lui la Watson Ci troviamo diversamente Io mi trovo meglio Con l'hammer E adesso La prossima volta Vogliamo provare Quella della Jim Leco Che adesso Che ci hanno messo La cintura E abbiamo provato A farla con lo stance Basso-basso Sembra vada Quindi magari ci facciamo Un lavoro metabolico Vediamo un attimo È quella che fa Cuba Quella che fa Cuba Sì, sì, sì Quella La hip press Sì, sì, sì Sì A me non piacciono Le hip press In generale Io ho provato Anche quella Dell'hammer Non mi fanno impazzire Però Quella là Forse riusciamo a trovare Come farla Diciamo così Dove va un po' provata È particolare Come schema motorio Ah, ok È come la La pressa verticale Io l'ho provata Ma Non me lo vedo No, neanche a me Neanche a me Cioè Non mi fa impazzire Come Rom E Non la sento No, no Sento Boh, non lo so Io ragione Meno lo stesso feeling In realtà Cioè Quando vado a fare Cioè La pressa a 45 gradi Mi dà proprio Quella sensazione Che sono da fare la pressa Sì Mentre quando faccio La pressa verticale Non lo so Sembra quasi un giocattolo Non lo so Perché Vero 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 Sì, sì Vero Forse perché Le pressi verticali La maggior parte Di quello che ho provato Sono Con Sono P-loaded Con Il Ok Il piastre Non è Non è a dischi Quindi No, la verticale La verticale Quella che stai Quella 10 Ah Non l'avevo mai vista Con il caricamento a piastre Sono tutte a piastre Scusa Ma pure quella di che sta Quella di che sta All'ultra Fressa All'entrata È a piastre No La verticale Fè Quella che stai Che hai il carico Che fa da su e giù A 90 gradi No, no La verticale Quella che c'ha il carico Che fa proprio verticale Che cade Sopra Sì, sì No, la verticale Nel senso che tu Cioè nel senso che tu Stai a 90 gradi No, no, no La verticale Intendi quella che c'ha Il carico che fa verticale Ah, ok Quella è orizzontale Quella è orizzontale Quella che dici te Orizzontale allora Ok Fede sta con la terminologia inglese Quindi queste cose Sei tipo newbies Su queste cose Su tutte le Traduzioni in italiano Sei Sì, sì Io ci provo a tradurre Ma non so io So tipo Come si chiama? C'è un Google Translate Capito? Fa traduzioni Adminchiam Esatto Ci buttiamo proprio Sulle domande Che ci hanno fatti i ragazzi Vai Allora Quando ci siamo appassionati Al mondo del bodybuilding Per corsi di studi Per me per Ludo Perché in Inghilterra? Perché siamo andati in Inghilterra? Ok, allora Aspetta Partiamo dall'inizio Per tutti e tre Sì Quando ti sei appassionato Al mondo del bodybuilding? Io in realtà Perché io ho iniziato Ad andare in palestra Quando ho Smesso di fare Judo Perché ci ho avuto Una protezione Alla schiena E quindi Non potevo continuare A fare Judo E allora Sono andato in palestra Insomma a cazzeggiare Perché facevo palestra E tennis insieme Perché al circo di tennis C'era pure la palestra Quindi stavo con gli amici Era Era molto a cazzeggio In senso Le strutture di tennis Ci faceva fare Tipo mezz'oretta Di tecnica E poi ci lasciava A cazzeggiare Quando pioveva Stavo in palestra Quindi ho iniziato là Poi a tennis Sono una delle cose Più scandalose Che si possa vedere Sulla faccia della terra Cioè non credo Che ci sia Una cosa più brutta Di vedere me a tennis Proprio totalmente incapace E E zero pazienza Per imparare Ovviamente Quindi Da là L'anno successivo Mi sono iscritto In palestra E credo che L'imprinting Ce l'ho avuto Quando Facevo palestra E poi a un certo punto Per vedere qualche consiglio Mi sono iscritto a Bodyweb Che era il forum E E là proprio Cioè della serie Ma Cioè non credevo Che potesse esserci Così tanta nerdaggine Dietro Cioè che figo Allora Cioè da là Su Bodyweb È stato un crescere Rennonation Anche l'ho fatto Per questo Perché a me Quel periodo Ha dato veramente tanto Cioè il fatto Di stare in un forum Che non era Vedere video Vedere Cioè proprio un forum Dove la gente Nerdeggiava E vedevi i log Di tutti Vedevi tutti gli esperimenti Che facevano Gli integratori Che usavano Gli allenamenti L'alimentazione E Poi c'era Quel Grande Topic Quella Quella sezione Che era Lo famo strano Tu c'eri Lore Su Bodyweb Sì sì Che poi comunque Cavoli va Che guarda Che scrivevano Anche atleti Atleti che vincevano Anche due torri Sì 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 Era la gara Era l'Olimpia Italiano Parlo di un monte premi Di 50.000 euro Sì 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 Ma c'erano tutti C'erano tutti C'erano tutti 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 i punti di riferimento Eccetera E Lo fanno più? Eh? Sì lo fanno Però adesso L'ha preso L'ANBB L'ha comprato È sempre una gara open Non fanno i controlli In quel caso Però l'hanno Credo un po' Ridimensionato Da quanto Da quant'era Sai che c'è Wabba forse No Io sapevo Che l'aveva Io sapevo Che l'aveva comprato Vicentin Questo almeno Un po' D'anni fa Sì allora sì Ok Guarda Sì perché so Che comunque Un open Non fanno Nel controlli Nel nulla Quello no Però io sapevo Montepremi C'è ancora Si è ridimensionato Molto Però c'è Sì sì C'è ancora E logicamente Purtroppo Io Guarda Io ho fatto tempo A vedere Aspetta Adesso non mi Atleti Che hanno calcato Anche il palco Dell'Olimpia Al Due Torri C'era Secarecci Savi Secarecci C'è Atleti Di un certo L'Olimpia C'è il top In Italia Sì 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 E era una gara Spettacolare Poi purtroppo L'IFV È stata All'inizio È stata Mi sembra Che si è scissa Sì Ha litigato E Quell'anno lì Ho fatto il tempo A fare l'ultimo anno Ho gareggiato L'ultimo anno Nel Due Torri Quando era ancora Tra virgolette La gara Di riferimento L'anno dopo Si è scissa Hanno escluso L'IFV E Hanno partecipato Solo Wab e Nab Poi da lì È stato purtroppo A livello di Proprio A livello di livello Scusate il gioco di parole Non scendere Anche perché adesso Sono nate tutte le varie Cup Yamamoto Tsunami Cup Eccetera E Panatta Cup Che è dell'elite Quindi E poi più che altro Sono sbocciate Un sacco di federazioni E io vedo che il gioco Che si sta facendo adesso È che ci sono Un sacco di federazioni Quindi È divertente perché Se tu Ti arrivano Magari che ne so Stai su Instagram E tutto il resto Sono tutti Campioni italiani Di Campioni italiani Ma infatti Perché anche a me Quando Trovo qualcuno Magari mi capita Di parlare in giro Mi dicono Conosco Quel ragazzo Che è campione italiano Io bene o male Nel mio piccolo So Esatto Chi vince Chi non vince E mi dice anche il nome E dico Ma no E purtroppo È diventata Come mi confermerà Fede Come la box Per gli sport di combattimento Che La federazione La federazione numero uno È una sola Sono tutte Le ramificazioni E così Così Tu puoi fare anche il torneo Federico Faglio Il torneo Lore Fabio Capito Il campione italiano Capito No ragazzi Sabato Sabato scorso Ho visto la gara Di Una gara Comunque L'NPC Italia Comunque Era un po' che atleti Cioè Adesso vedo Che comunque A livello Cioè Sono talmente Tante federazioni Che comunque Ha perso Anche il livello Perché Trova a finire Che le competizioni Scarsene C'è anche atleti Ma perché comunque Essendoci 40 federazioni È normale Sono i numeri Tutti vogliono vincere Quindi Chi Chi lì per lì Magari va in una federazione Meno quotata Perché vuole arrivare al primo Chi vuole andare In una federazione Più forte Perché vuole arrivare al primo Il fatto sta Che comunque Trovi gare Dove in categoria Sono in quarto Ragazzi Ho vinto l'italiano Cioè Io gareggiavo Ho vinto l'italiano E eravamo in 27 In categoria 27 Cioè Io ho fatto Un europeo Che eravamo in 35 Io ho fatto Sono andato a far l'arm E eravamo in 18 Cioè Gare Sì sì Ma E poi Sì 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 no 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 Ma è vero Perché adesso Quello che si sta creando È che Prima era la federazione C'erano i primi 10 Adesso Quello che Arriva sempre primo Arrivava primo È rimasto là Perché comunque Sei il primo Del top Quello che è tipo secondo Va magari in un'altra federazione Che è la seconda migliore Dove arriva primo Il terzo Va in un'altra federazione Che è la terza migliore Dove arriva primo Quindi si distribuiscono E quindi l'unico che rimane È quello che arrivava primo Tipo Gli altri 5 Che seguivano Sono scomparsi Perché vanno a vincere l'altro E riparte dal sesto E ce ne sono comunque pochi No Quindi La cosa è quella Ti dico Ad esempio Cioè la cosa che È una cosa bella in realtà Cioè nel senso È super positivo Che nascano più federazioni Che ci siano Perché ovviamente poi C'è una selezione naturale Nel senso che Magari nasce una federazione Dice Ah che palla è nata Un'altra federazione Però fanno un buon lavoro Anche a livello di Addestramento dei giudici Standard eccetera Si collegano con una federazione Internazionale di livello Quindi danno i testerini pro Di livello Questa è una cosa positiva Il problema Che quello che vedo io Sono gli show Cioè nel senso che Ste federazioni Fanno veramente Degli show Tipo Nella parrocchia Di Di Don Mario Affittata Quello striscione Cioè Io sono stato a delle A delle gare Che Mi ricordo una gara Avevano affittato la palestra Di un liceo Ma Cioè c'erano i gradoni C'erano tipo Cinque persone Che guardavano Che erano tipo La mamma e il papà Di quelli che stavano Sul palco Ed era E a me Mi hanno chiesto 50 euro Per andare dietro Dall'atleta Gli ho detto Guarda Gli ho detto Guarda dintorno Non c'è nessuno Gli ho detto Mi fa entrare dietro Cioè mi fa entrare Non me ne frego Io non ti do 50 euro Per stare dietro Con il mio atleta Ti giuro Cioè è scandaloso Ah vabbè dai Perché sei te Di qua Gli ho detto Vedi Capito Quindi Per stare dietro Con l'atleta Perché sei il coach No Eh alcune federazioni Sì Cioè nel senso Quasi tutte Dipende Cioè nel senso Il discorso è Ci sono Molte federazioni A ogni atleta Gli danno un pass Per il coach Tipo in NBB L'atleta C'è anche il pass Per il coach Quindi Quello che succede È che l'atleta Dà il pass al coach Così il coach Può stare backstage Poi io Cioè io ho visto Situazioni in cui I atleti dicevano No ma il pass Lo do alla mia ragazza Io una volta Sono uscito Avevo visto Un mio amico Stava tipo così Io ho detto Ma non stai dietro Con Con il Insomma gli atleti A seguire Dice non mi ha dato Nessuno il pass Stanno tutti La ragazza Il ragazzo Il compagno A me non mi frega Quelli vanno là Io non lavoro A me frega A me La ragazza Li scalda Capito No comment Siamo usciti un po' Dal seminato Però Sì vabbè Vabbè Comunque per dire Che Cioè nel senso È buono Che ci siano Tante federazioni Importante Che lo show Gli show Vengono mantenuti A un certo livello Perché Comunque secondo me È anche un po' Proporzionale Perché stanno Anche più atleti Di quelli che ci stanno Anche Sicuramente Sicuramente Infatti dico È positivo Cioè sono tutte cose positive Il discorso È proprio quello lì Che hai fatto te Luca Comunque c'è Va bene Le nuove federazioni Però c'è Fate degli show Come Cristo comanda Esatto Perché poi Se no Se gli show Comunque non valgono niente Poi da poco Può essere Campione italiano Che te pare a te Però Cioè fondamentalmente Poi prima o poi Dovrei andare Comunque su una federazione Più importante Sì ma Guarda Fè Più che altro Io te lo dico da coach Nei confronti degli atleti Perché Io Li vedo gli atleti Che salgono Su un palco importante E perdono Quindi vanno Io ti faccio l'esempio Io tantissimi Ce l'ho in NBB Io li vedo Quando mi salgono In NBB All'italiano A Rimini Wellness Che c'ha il palco C'ha tutta la fiera davanti Cioè tu stai comunque Al centro del mondo Il palco è bello Lo show è pazzesco Cioè io li vedo Che anche se Se magari non arrivano primi Anche se Non lo so Non ottengono il risultato Che vorrebbero Perché lo show è di alto livello Cioè vanno là Cioè nel senso L'esperienza è figa Cioè c'ha il backstage Il tank come è organizzato I ragazzi che stanno dietro Sono super simpatici E tutto il resto Sali che ti chiamano Ti fanno stare sul palco Cioè è bello È bello È una bella esperienza E invece ho visto ragazzi Che volevano andare In altre federazioni Magari che erano Dei piccoli show Eccetera E io Cioè l'ho vista Le cose veramente La delusione No? Della serie Cioè io Perché è culo Che te lo fai lo stesso Cioè non è che Ti fai più o meno culo Cioè la prep Te la fai lo stesso Però arrivi alla fine E c'hai tipo Il posto che è piccolissimo Il palco che ci stai A malapena te E non ti fanno stare Per niente sul palco Per cambiarti O farti il tank Devi andare al bagno Magari del teatro Delle cose del genere Quindi bagni Tutti super sozzi Cose del genere La musica Non si sente magari neanche Perché le casse Sono schifose Quindi non c'hai musica Cioè È veramente deludente Capito? Anche se arrivi primo Cioè è tipo Ti senti proprio Che sei arrivato primo Tipo Non lo so Ti senti La sensazione È tipo quella Che tu imbocchi A un parco per bambini Che fanno tipo I giochi al sacco Tu vai a 30 anni Fai il gioco al sacco E vinci Una roba Di tutti i bimbi Cioè della serie Vinci però Sì Che cazzo ho vinto Dai Sì Il contesto fa Il contesto comunque A livello personale fa Guarda io Ho gareggiato Sempre nei miei Quindi non ho Termini paragoni Guarda Dico Occasioni però Sono sempre state organizzate bene Cioè fortunatamente Sì a FBB Sì 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 Io mi sono sempre trovato Bisogna avere preconcetti Come dicevi te Lo show è bello A prescindere dalla 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 federazione Perché Sì È logico Io per me È logico Per me esiste la FBB Del mistro Olimpia Per me quella È il top Se uno Uno che comunque Si approccia a questo mondo E ha Vuole Davvero Tentare di fare il salto Di ottenere qualcosa Ma a livello personale Ma anche a livello Diciamo di Non Chiamiamo lavorativo Ma no Deve Deve cercare il top Deve puntare a quello Poi è logico Se uno invece Vuole divertirsi Vuole farlo ovunque Cioè Se uno Io rispetto Se uno volesse Fare la federazione Come Cioè dell'oratorio E In cuor suo Arrivare a casa Da moglie Bambini Dire Sono campione Del pianerotto E lo fa star bene Io non lo critico No figurati Figurati No no Ecco Cioè Va bene così Cioè Il mondo è bello Perché è così Comunque Ci sono tanti atleti È uno sport aperto No no Quello sì La cosa che dico io È che I ragazzi Che si approcciano Le prime volte Loro vedono Molto le gare Che vedono su Instagram E Quindi Quando vanno là Loro si aspettano Quello standard O comunque qualcosa di simile Quindi è più che altro Quello Come siamo arrivati A parlare di questa cosa La domanda era Come ti sei innamorato Body web Due torri Body web Due torri Una piccola parentesi Quel ragazzo lì Che mi ha commentato la foto Portalo in FB Stefano Dice a me Sì Classic Stefano Dici Sì 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 Io infatti Ne ho parlato con Giuse E gli ho detto Secondo me Quest'anno Tipo già in Elite Potremmo Perché lui è Natural Gli ho detto Quest'anno in Elite Possiamo Secondo me Possiamo Fare un bel piazzamento Natural Da Natural in Elite Secondo me Fai un bel piazzamento Perché là Danno molta enfasi al vacuum E lui c'ha proprio Un bel vacuum Il Ha una bella densità muscolare Una bella linea Densità e linea Il problema è che Il primo cut Quindi stiamo cercando Di arrivare Al tiraggio sulle gambe Però sono ostiche Non è mai arrivato A questo livello Quindi Stiamo avendo un po' difficoltà Perché Stiamo cercando di spellarle Per bene Quindi abbiamo questi ultimi punti Adesso la prossima settimana Lo vedo dal vivo Quindi Ci siamo Insomma Giusto quel che devo aggiustare Però siamo Sì sì Step by step Ma promette bene Mamma mia Mamma mia Veramente Stefano Veramente Bellissima linea E Comunque sì Dicevo Niente Da body web Ho visto quanto poteva essere nerd E da là è stato un escalation Quindi Questa è la mia storia Questa è la mia storia Dicono No Piano Piano studi Piano studi Sì sì Piano studi La seconda domanda Ah no scusa Rifai Come ti sei innamorato del model BB Che percorso di studi hai fatto Perché sei andato in Inghilterra Allora Percorso di studi Io in realtà ho studiato Prima ingegneria Poi giurisprudenza E poi ho accannato Perché mi sono trovato a lavorare parecchio Quindi a avere un business Per cui ho dovuto fare una scelta E Quindi Niente a che fare con il bodybuilding Se non ingegneria Insomma tutte le cose di fisica meccanica Di analisi Che Si spiegano Si spiegano i disegnini Esatto E dove hai imparato a disegnare E Per quanto riguarda il bodybuilding Tanto Cioè ho fatto la ISSA La Sanis E Poi la cosa La cosa tanto Sono state Varie consulenze Workshop Queste cose qua Con Insomma i principali coach Eccetera Tra l'altro alcune volevo pubblicarle su Rano Nation E Quindi in realtà il percorso di studi Non dico che è stato da autodidatta Perché tanto Però è stato proprio scegliere Di fare Molta esperienza Quindi Tante consulenze Tanti workshop Tanto stare nei forum Comprare libri Piuttosto che programmi Piuttosto che materiale Cioè tutto quello che potevo trovare Però anche quello Molti chiedono Qual è il libro Che posso trovare su questo argomento O quello Con cui posso imparare queste cose In realtà quello che ho fatto Io almeno la mia esperienza È stato un mosaico Cioè non c'è mai stato È stato il libro che ti spiega Tipo la biomeccanica La biomeccanica Cioè veramente me la sono studiata Veramente più Quando ho fatto ingegneria Gli anni di ingegneria Piuttosto che Facendo bodybuilding Perché poi bodybuilding Apro O aperto I testi di anatomia Quelli Insomma che ho trovato Universitari poi E dall'arri colleghi Un po' il discorso Della biomeccanica in palestra Che è una versione molto semplice Di quella che è l'anatomia Cioè È un'applicazione molto semplice Dell'anatomia funzionale E poi da là Tante consulenze Tante cose Che ti fanno avere poi Un quadro Un mosaico generale Quindi è stato veramente Tutto così E per quanto riguarda Perché sono venuto In UK Allora Tante ragioni In realtà La ragione principale In realtà è stata Una ragione proprio di Di vita nei confronti Del paese Nel senso che Io non Siamo arrivati Io e Giorgio A un punto in cui Abbiamo realizzato Che per noi Era impossibile Continuare a vivere in Italia Ora Per ragioni Molto simili Però per sfumature diverse A me personalmente Perché io Sono una persona Che ha bisogno di Vivere con delle regole precise Con delle cose precise Che devi fare E stare Farle E stare tranquillo Questa è una cosa Che l'Italia ti impedisce Di farlo Cioè L'Italia Roma poi In particolare Almeno secondo La mia esperienza Non ho vissuto In altre città Però Ti crea Tanto stress E tanta ansia A me creava Tanto stress E tanta ansia Cioè Perdi il pacco Che il postino Non ti porta Perché magari Non sei in casa E finisci alle poste In giacenza Hai perso una mattinata Perché devi stare Alle poste una mattinata E Devi andare da qualche parte Per fare una cosa Di dieci minuti Che magari È a Cinque chilometri Dieci chilometri Da dove sei te Hai perso una mattinata Perché tra traffico Andare e tornare Hai perso una mattinata E queste sono piccole sfaccettature Poi ci sono tutte le cose Burocratiche L'allaccio della corrente Del gas L'affitto Come funziona Tutta la burocrazia in generale In Italia Per avviare le attività In Italia Da un punto di vista Poi imprenditoriale C'è una forte barriera In fase di start up Cioè Quando hai un'idea E vuoi metterla in pratica È un dito su per il culo farlo Cioè È veramente Un cazzo di inferno Per cose Totalmente Inutili Insensate Cioè Tutta una serie Di pratiche Proprio burocratiche Che tu devi fare Che sono Totalmente inutili Cioè Non sono fatte Per pagare Le pratiche burocratiche Sostanzialmente E sono inutili Cioè Io capisco Che possono essere utili Probabilmente Perché c'è gente Che se ne approfitta E che trova In tralazzi Eccetera Però è proprio questo Io sono una persona Che vuole fare le cose In maniera semplice Non rubare niente Per l'amor di il cielo Però cioè Nel senso Pago quello che devo pagare Ma deve essere Quello deve essere Semplice da fare Perché se mi Vai a rimbalzare Tra 30.000 cose Io impazzisco E quindi Questo stava affossando Tanto Tutte le nostre Le nostre iniziative In generale Cioè era tutto complicato Quindi a un certo punto Questa è stata La cosa principale Siamo venuti qua In UK Abbiamo riaperto Tutto quanto qua in UK Trasferito tutto in UK E quando sono arrivato Quello che mi aspettavo Era 10 volte di più Cioè qua È veramente tutto facile Al punto che io Col commercialista parlo E dico Darma Cioè Devo fare delle chiarazioni Devo spiegare delle cose Devo fare cosa E lui Tipo mi fa Perché Dico no vabbè Per dichiarare che devo fare E lui mi fa Perché devi fare Cioè tu devi dire Quanto guadagni Basta Cioè se non fai Alcune attività Logicamente protette Cioè non è che Hai aperto un studio medico In cui fai cose chirurgiche No Però Se tu hai un business Tu di quanto guadagni Lo dici All'agenzia delle entrate Le CMRC Loro ti dicono Quanto devi pagare Paghi Fine Cioè Simple as that E se Cioè è assurdo Aperire una società 5 minuti Sulla tazza del cesso È praticamente gratuito Devi pagare 20 pound Forse Capito E Quindi questo è stato Il fattore E poi l'altro fattore È quello che Io amo il bodybuilding inglese Cioè per me Come è Il bodybuilding inglese Non lo trovi Da nessuna parte del mondo Ma neanche lontanamente In America Cioè tutti hanno Il sogno americano Tutti dicono Mi trasferirà Anche molti pro Quando li senti Dice ma ti trasferirai In America Come se fosse Appartieni all'America Se sei un bodybuilder Per me Cioè UK È qualcosa di incredibile E E questa è anche È stata una cosa Per cui avevo Delle aspettative Che si sono amplificate Quando sono arrivato Perché quando sono arrivato Mi sono reso conto Di quanto Stare in un environment In un ambiente In cui Tu entri in palestra E la gente Di media Cioè ti tratta Come un atleta Cioè conversa E poi quando gareggi Ma stai in prep Quando c'hai la prossima gara Senza conoscerti Cioè automatico Se stai in palestra Ti alleni Quando hai la prossima gara Cioè noi siamo agonisti No? E Cioè È un qualcosa che È un ambiente Che ti spinge veramente A far di più Ti spinge a vivere bene È un ambiente In cui posso andare In sala a urlare E c'è quello Che mi dice Bel set O che mi guarda Ammirato Ma non perché Devo andare in sala A urlare O perché Deve essere fatto così Ma semplicemente Perché posso fare L'atleta Cioè non è visto male L'atleta Non è visto con occhi Un po' così E anche il discorso Dell'ambiente In cui non c'è Rivalità tra persone Cioè in Italia Te guardano sempre Almeno questa è la mia Sperienza di nuovo Poi puoi essere Sfasata Puoi essere Che è totalmente così Però in Italia Anche quando vai In nuove palestre Magari è la prima volta Che vai Ti guardano sempre Un po' di sottecchi Per Questo mo chi è Questo è il mio Pollaio Sono io il gallo Questo che vole Cioè devo fare Invece qua è tipo Ah guarda C'è il nuovo ragazzo Andiamo a distruggerlo Sotto la pressa Cioè io sono arrivato E è arrivato Nathan Big Nathan Che tu lo conosci È 340 libri d'uomo Vicino ai due metri Che dice Quanto c'hai Sulla leg extension Gli ho detto Guarda c'è una sola serie Perfetto Si è messo all'accanto E dico Questo che cazzo C'è Mi fa pressione Che me ne devo andare Invece poi Si è messo a spottarmi Ammazzarmi Così vai 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 Così Ma non mi conosceva Era tipo la prima volta Che parlavamo E allora Cioè è così Quindi è Per tutte queste ragioni Si sta proprio meglio E poi Guarda proprio On top È il discorso Che abbiamo fatto io e Giorgia Del Io non voglio far nascere Un figlio in Italia Cioè nel senso Volendo allargare famiglia Eccetera Io in tutta onestà Non mi sento di farlo nascere in Italia Voglio fargli da subito Il primo regalo E farlo nascere in un paese In cui è È molto più No? Aperto Quindi Tutto questo Tocca a voi No no vai vai Tanto io Mio è poco Vai tranquillo Io parto Faccio le cose a ritroso Parto da Perché sto in Inghilterra E vado verso il bodybuilding È tutto collegato Eh beh giusto Beh allora Io a parte Sono venuto in Inghilterra Ormai 9 anni fa 10 anni fa Nel 2013 Sono venuto in Inghilterra Perché fondamentalmente Io vengo da Terni E ci stava veramente Pochissimo da fare Per me Giù Cioè come Come ragazzi 19 anni Aspiravi A un Se non facevi Comunque l'università A lavori Dai 900 euro Ai 1000 euro Cioè 1000 euro A Terni Va bene Cioè proprio Stai nella media E A me fondamentalmente Non mi andava bene Cioè nel senso Volevo vedere quello Che ci stava un pochino fuori Quindi la prima occasione Sono venuto in Inghilterra E E così per gioco Tra virgolette Ho Ho chiesto lavoro Ho mandato un po' di curriculum E tre giorni dopo Avevo trovato lavoro Quindi sono Riesposto in Italia Per prendere le mie cose E Sono risalito la settimana dopo E Praticamente Ho cominciato la mia La mia Avventura in Inghilterra Con Un bagaglio a mano E 300 euro Punto Finito E Sette parole d'inglese Sul vocabolario Questa è la cosa Che trovo più affascinante In assoluto Cioè tipo troppo Non riesco Cioè Chapeau Non riesco proprio A figurarmi Meno io Io consiglio adesso Tu consiglia che Il primo Il primo giorno Io dovevo praticamente Arrivare A Una città Vicino Vicino Londra E mettermi in contatto Con questa famiglia Con questa famiglia Che mi doveva ospitare Per i primi giorni E Praticamente Arrivo Su questo paesino Sperduto Chiamo Questa Persona Che mi doveva venire Diciamo Con cui mi dovevo incontrare Zero Non mi rispondeva Quindi praticamente Ho passato Due ore e mezza Seduto sopra Alla mia valigia In un parco Capito Non sapendo cosa dovevo fare Perché non c'avevo Cioè c'avevo Questo numero inglese Che però non No nemmeno Non c'aveva nemmeno Il numero inglese C'avevo Il mio telefono italiano E provavo a chiamare Questa signora Che non mi rispondeva E da quell'altro Locando Non potevo nemmeno Chiamare i miei Dicendogli Guarda questa non mi risponde Perché c'è Non li volevo mettere In una situazione Di panico Anche perché comunque Che avrebbero mai Pulto fa Cioè fondamentalmente Quindi praticamente Io che stavo Quasi con le lacrime All'occhio Perché non sapevo Che fai Diciamo Ma tu guarda Che cazzo L'ho dovuto fare Mi sono dovuto venire In Inghilterra Ma per quale motivo Io stavo tanto bene A casa mia Tutte queste cose così E poi alla fine Stavo una donna Mi ha risposto Ed era meglio Che non mi rispondeva Perché io non mi sono detto Niente Era più che altro Lei che cercava Di darmi Delle indicazioni Random Che non capivo Assolutamente Per dirmi Dove stava a casa Su tua E praticamente Poi ovviamente Col fatto che Un minimo Devi capire Un attimo Che sta e succede Mi è venuto D'incontro Perché gli dicevo Che cercavo Di dirgli Che stavo Su un Su un parco E poi comunque La cittadina Il paesino Non era troppo grande Quindi comunque Ci stanno pochi parchi Lei mi ha detto Un po' di nomi Io ho visto Un cartello al volo E io ho detto La via dove stavo E lei mi è venuto A prendere Perché tu consideri Che io questa signora Non l'avevo mai nemmeno vista E conosciuta Quindi ogni persona Che passava con la macchina Io ho capito Su stavoletto Che è così Capito C'è messa di scena Quindi niente Ho cominciato Praticamente A lavorare Io facevo Io già facevo Il pasticcere Giù in Italia Quindi comunque Ho cominciato Con quest'altro amico mio Che è venuto Sempre dalla mia stessa città Dopo tre giorni Però lui è venuto Quindi comunque Ci siamo rincontrati In questo paesino E abbiamo aperto Praticamente Il ristorante A un signore Che aveva Un po' di soldi Messi da parte Voleva aprire un ristorante Che faceva Il ptl Che dipingeva I muri delle case Praticamente C'erano un po' di soldi Messi da parte Voleva aprire un ristorante Italiano Ma non sapeva assolutamente Come funzionava Il ristorante Quindi aveva trovato Questi due scappati De casa Io e questo amico mio Che fondamentalmente Sapevamo come funzionava La ristorazione E gli abbiamo aperto Il ristorante E quando gli dico Gli abbiamo aperto Il ristorante Abbiamo proprio Aperto il ristorante Nel senso che Abbiamo fatto i lavori Dentro al ristorante E abbiamo fatto il menu Abbiamo parlato Con i fornitori Tutto quanto Tutto quanto Tu considera Poi ora faccio Long story short Ma questa è carina Da raccontare I primi tempi Io andavo A prendere La pasta Fatta La pasta fatta all'uovo Prendevo Il treno Dal paesino Dove stavamo Andavo a Londra A Barrow Market Non so se siete mai stati Andate perché è fantastico Mi andavo a caricare Quindi prendevo Il treno La metropolitana Mi facevo Due chilometri a piedi Mi caricavo Dai 20-30 kg Di te pasta Fatta a mano Quindi con gli scatoloni In questa maniera E facevo La way back Quindi due chilometri Metropolitana Treno E portavo tutto Ma questo Quante volte Lo facevi? Eh questo Quasi due volte A settimana Perché Poi è pasta fresca Quindi non la potete Terminare per tanto tempo Riferire E poi Ovviamente Andando davanti Uno si Diciamo Trova Trova il modo Di essere più Performante possibile No? Quindi Comunque Long story short Le cose sono andate davanti Per un po' di tempo Poi da questa cittadina Mi sono mosso A Cambridge Dove Ho cominciato A fare Proprio Facevo proprio il cuoco Per un altro ristorante E è andata avanti Questa cosa Per un po' di tempo Fino a Quattro Oddio Ormai già Cinque anni Dove Ho deciso Di cominciare a fare L'università Quindi ho studiato Nutrizione E E ho preso Allo stesso tempo L'attestato Da personal trainer Quindi Nello stesso Momento In cui studiavo Per l'università Il primo anno Ho usato Lo stesso anno e mezzo Per prendermi L'attestato Da personal trainer E Appena Appena sono diventato Personal trainer Ho cominciato A lavorare in palestra Io ovviamente Ho fatto sempre Arti marziali E E L'ho continuato E comunque Però Da quando sono in Inghilterra Fondamentalmente Ogni volta che mi andavo A allenare sulle palestre Ci stava sempre Quello che faceva Bodybuilding E quindi Comunque Io sono sempre stato Affascinato Da tutte le cose Che non capisco Non ne capisco Il senso Ci ho molto affascinato Tanto che qualche volta Magari le persone Dicono pure Ma che te guardi Fondamentalmente Perché io mi provo In un pallo Guardo le persone E così capito Le fisso Capito E non mi rendo conto Che fondamentalmente È una cosa Super Imbarazzante Perché dici Che cacchio sei Che mi guardi In questa maniera Quindi comunque Gli do informazioni Perché te l'anni In questa maniera Che cosa fai Di qua di là E Mi sono avvicinato Al mondo Diciamo Più del bodybuilding Proprio dell'allenamento In palestra E l'allenamento Fondamentalmente È To failure Quindi proprio Accedimento Perché qua Comunque Il buffer Non esiste Fondamentalmente Cioè io Le prime volte Che ho sentito parlare Di buffer Era magari con Sì Penso quello che io Che se la prendeva In maniera Buffer Ma yes Quindi sto facendo Più danni che altro Cioè vedi Alcune persone Conoscono il buffer Perché ne parlano Io invece devo Stare zitto Devo ignorarlo L'allenamento Cioè se La serie La porta a termine Quando non ce n'è più Basta Finire la questione Quindi sì Comunque Poi da quando Sono diventato Personal trainer Quindi diciamo Ormai si parla Già di 4 Barra 5 anni fa Mi sono andato Sempre a allenare Sul palestre Dove comunque Si faceva bodybuilding L'ho sempre portato Insieme Quindi facevo Bodybuilding Portavo avanti Allenamenti di BJJ Di Brazilian Jiu Jitsu E poi che è successo Che praticamente Nel primo lockdown Quando ero chiuso Tutte quante le palestre Io comunque Non potevo fare più Sport a combattimento E mi potevo solamente Allenare a casa Quindi comunque Mi sono comprato Tutte le cose Che potevo usare Per Mi ero comprato Pulling Mi ero comprato I barber Quindi le barre Per fare sia squat C'è lo stand Per lo squat La panca Per fare comunque Panca piana C'è i manubri Queste cose così E mi sono avvicinato Molto di più Al bodybuilding Anche con tutti quanti I podcast Vedevo gli allenamenti Dei bodybuilders Così E mi sono praticamente Fatto quattro anni Di full immersion Completa Nel bodybuilding Poi quando mi fisso Sulle cose Vedo solo quelle Quindi non c'è Io nient'altro Che indicizzato Un podcast Seminari Consulenze Capito Con 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 atleti Che facevano Bodybuilding E quindi Mi sono fatto Questa full immersion Fino a quando Comunque Vabbè Poi e poi Ho deciso Di cominciare Il percorso con lui All'inizio proprio E poi dopo C'è stato subito Il lockdown Quindi è stata Una cosa veramente Quello che Ho potuto fare E comunque Ho continuato Cercando comunque Di fare consulenze E di farmi anche Allenamenti personal Poi io sono sempre Stato abbastanza Fortunato Perché mi sono Come ho detto prima Allenato sul palestre Dove comunque Ci stanno sempre Buon video Quindi comunque Io con la mia faccetta Da culo Andavo là E dicevo Senti ma perché Fai questa cosa Ma perché fai così Ma che non è Che ci alleniamo insieme Io c'è stato pure Joe Brightman Non so se Vole conoscete FBB Pro Che fa Man Physique E adesso si stanno Andando sul Classic Che lui è veramente Veramente una branda Gigantesca Enorme E si allenava E allora Io cominciavo a fare Domande su domande Una certa Dico Ma mi ha preso E dice Basta domanda Allenaate con me Capito Ma penso Ma mi ha portato Nell'allenamento suo Non l'avessi mai fatto L'allenamento de petto Di un Man Physique Che poi diventa Classic C'è un rumore Considera Però ecco Piano piano E poi dopo Quando ho capito bene Quale era la strada Che volevo prendere Ho proprio deciso Dunque di Trasferirmi Su Diciamo La palestra Per eccellenza In Inghilterra Secondo me Che era l'ultraflex Portato anche Dal fatto Che comunque Avendo conosciuto Ludovico in persona All'Arnold Classic Comunque Io sposto la mia idea Che comunque Mi sarei voluto Spostare in un ultraflex Comunque Avevo le parti Giù di lì E Tempo un mese Stavo Stavo a Sheffield Quindi questa qui È un po' la mia storia Ti sei mai pentito Cioè Cioè C'è stato mai un momento In cui ti sei pentito Della Se ho fatto la cazzata Devo tornare in Italia Di non essere tornato in Italia No 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 Un momento In cui Hai pensato Ho fatto la cazzata Dovevo rimanere in Italia Ma quando Da quando ti erai trasferito qua All'inizio Non lo so No perché in realtà Cioè Nel senso Senso entrare troppo Nel particolare Però comunque Ci sono delle situazioni Delle in cui Io dovevo Un attimo Andare via Ok E quindi Non ho mai Non ci ho mai avuto Questo pensiero Di dire No cavolo Quasi quasi E poi comunque Il discorso è anche Che ogni volta Che tornavo giù in Italia Mi rendevo conto Perché me ne ero andato via E quindi Ero proprio Cioè super super contento Della decisione Magari Quello che ti dico Magari fino a tipo Un annetto Un annetto e mezzo Avrei voluto Andare Cioè Sarei voluto andare In un altro paese In realtà Che poteva essere Magari La Spagna O L'Australia Invece Adesso Mi penso Che rimarrò Un bel po' di tempo Ma la barriera Linguistica Fede Dopo quanto Non si è riuscito a superarla Tu Allora Tu considera Questa è anche una cosa Scusa Il prossimo podcast È Lore Perché ti sei trasferito UK Questa è una cosa Che voglio specificare Perché può essere Veramente Una mano santa Per tutti i ragazzi Che ci seguono Ragazzi Ragazzi Che ci seguono Che si vogliono trasferire Allora La cosa è Che tutti quanti Dicono Tu vai in Inghilterra Perché vuoi imparare l'inglese Ok Va benissimo Ma in realtà La cosa che tu devi imparare Prima di tutto È sopravvive Perché Cioè La cosa più importante Quando sei in un altro territorio È quello che comunque Cioè Tu devi trovare un lavoro Devi comunque mangiare Devi comunque Farti una vita E questo Purtroppo Tante volte Va a discapito Dell'inglese Perché la prima cosa Che tu fai È vai a trovare Un gruppo di persone Che condividono Le stesse cose Come potrebbe essere La lingua italiana Per esempio Quindi io comunque Ho vissuto I primi 5-6 anni Della vita mia In Inghilterra Con gruppi di italiani Fondamentalmente Non con inglesi Perché comunque Era più semplice Perché io comunque Sì è vero Sono venuto qua Per imparare l'inglese Ma sono venuto qua Per farmi una vita Fondamentalmente La barriera dell'inglese Ci vuole tempo Perché i primi tempi Vai proprio Che ti posso dire Ti vai al supermercato Facendo finta Di non trovare cose Nel bancone Capito Così che puoi parlare Con la commessa Capito Fai domande Di qua di là Una cosa che Mi fa troppo rito Ancora adesso Perché tutti ti insegnano Quando sei in Italia Che Hi how are you Che ti saluto Per eccellenza Ma in Inghilterra Nessuno Nessuno E ci stava Questa cacchio Di commessa Ogni volta Che mi faceva Un'interattiva Hi yeah Hi yeah Che cacchio Vorrei questa cosa Che c'è Hi yeah Ma che è che gli fa male qualcosa Non capivo Non capivo Praticamente era tipo Hi è l'abbreviazione Di hi there Ma era proprio Una cosa che non capivo Assoluto Noi qua Un piccolo spaccettatore Sì 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 Quando parli con le persone Del posto Noi qua Perché all'inizio Qua dicevano Hi or I Cioè Buttata così Che sarebbe Hi Are you alright Cioè stai bene E quindi noi All'inizio avevamo Intuito che era Era quella la frase Quindi rispondevano Sì sì Tutto a posto Ci guardavano Perché te lo dicono È proprio un'espressione di saluto Non è una domanda Stai bene È domanda retorica Hi or I Hi or I Così Dico ma perché non ci mettono Il cazzo di punto interrogativo Cioè o mi chiedi Se sto bene O mi saluti Cioè una delle due E invece è proprio un modo Di salutare Hi or I Sì è come quando Alzi tipo la mano Così che salutis Al volo Che attaglio Te Lore invece Beh io non mi sono trasferito In UK per il momento Quindi No Passione Allora Studi no Non ne ho Io sono Autodidatta Nel senso che Mi piace leggere Mi piace studiare Per me E poi soprattutto Mi piace attornarmi Di persone Che hanno un bagaglio culturale Maggiore del mio Ma per il semplice fatto Perché Ho tanto da imparare Da apprendere Poi Forse Un mio pregio Che sono tanto curioso Io quando non so qualcosa Vado a studiarla Vado a leggermela Faccio una domanda in più Chiedo E Poi Logicamente Dipende Come dicevo prima Da chi Dalle persone Che è intorno Cioè con Ludo Ho imparato tanto Sto imparando tanto Con altri preparatori Ho imparato Altre cose Poi comunque Ho tanta esperienza Alle spalle Anche se Comunque In questo mondo L'esperienza serve Nì Comunque Ti aiuta Per avere una visione A 360 gradi Bodybuilding Mi ha aiutato A vedere Le cose belle Le cose negative E le cose positive Però Seguo anche io Molti podcast Molti corsi E Come ho detto Sono curioso Cioè mi piace Mi piace L'anatomia A me mi piace Dio Tornassi indietro Se potessi farlo Studiere medicina L'ematologo Mi sarebbe davvero Precio farlo Però Vabbè Sono scelte di vita E tutto Per quanto Eh La prossima vita Se Se crediamo Nella reincarnazione Sì Però È andata così No Quello Però Non Non Rimpianto Anzi Sotto Un punto di vista Invece Atletico Passione Bodybuilding Io Sono sempre stato sportivo Nel senso Ho iniziato a far nuoto All'età di Sei anni Perché ho rischiato Da negare Allora Sì Mio padre Ha salvato Sì a me Mio fratello Eravamo In C'era ancora La Jugoslavia Eravamo Io e mio fratello Su Sì a i coccodrilli Confiabili Io e mio fratello Non sapevano nuotare Eravamo un po' A largo Mio padre Era lì vicino Ci trainava Il problema Che faccia gli stupidi E si è capottato E mio padre Fortunatamente È riuscito A Non so come ha fatto A entrambi A tenerci Sua galla Lui Non so quant'acqua Ha bevuto Fortunatamente Poi è arrivato Bagnino Sono arrivati Altri bagnanti E hanno C'erano soccorso In merito A quella Brutta esperienza Diciamo che Poi ho Ho fatto Praticamente 12 anni di nuoto Ho gareggiato Anche A livello agonistico E tutto Non essendo alto Perché È vero Il nuoto Il nuotatore Sono tutti alti E slanciati Io purtroppo Quello no E quindi La carriera è finita Così Poi è bene Ho iniziato a giocare A calcio Ho giocato Anche buoni livelli Sono arrivato a giocare In eccellenza Comunque avevo anche Il mio stipendio E tutto Però poi C'è stata la passione Del bodybuilding Che è nata All'inizialmente Da un Non tocco Un tasto dolente Da un disagio alimentare Io ero bulimico Non ho problemi A dirlo Ero bulimico Avevo Problemi Quasi di anoressia Mi ha aiutato Ho iniziato Un percorso Con una dietologa Questo ho 17 18 anni E poi Da lì ho iniziato A andare in palestra Per una questione Prettamente estetica Non mi vergogno dirlo A me Se volevo migliorare Poi L'alimentazione Il Seguire la dieta Mi ha aiutato Tra virgolette A uscire Da quel disturbo Anche se Uscire Diciamo che Ci convivi Impari a conviverci bene E poi Il problema Da grande Diventa sempre Più piccolo Però rimane Sempre latente Comunque Però Seguire la dieta E seguire Uno schema Preciso Mi ha aiutato A vivere Una vita Normale Ed appassionarmi A questa disciplina Poi da lì Ho visto Che comunque Il cambiamento fisico C'era Le dotti Genetiche Erano nella media Però diciamo Che comunque Avevo i miei risultati E da lì Poi io sono competitivo Quindi Cioè a me Io purtroppo Qualsiasi cosa faccia Soprattutto in ambito sportivo Sono se io Troppo Io devo vincere Devo tenere il massimo E questo Comunque ho detto Faccio bodybuilding Non lo faccio Sì mi piace Ok è tutto Però Voglio Voglio essere Il top Voglio arrivare al top Quindi Su quello poi È stata Un escalation E comunque Una passione Che mi è Mi è rimasta E ho tuttora Ci sta Ci sta Passiamo alla prossima domanda Vai Fe Allora La vostra opinione Sul recupero Cosa impatta E migliora La vostra opinione Sul recupero Cosa impatta Cosa impatta Cosa impatta E le recupero E cosa lo migliora Ah impatta E negativo Sì Io Ve la vorrei Girare Più che altro Parlando di un'altra cosa Cioè nel senso Rispondendo sempre Alla domanda Però facendo Un piccolo spunto Di riflessione Vorrei partire dal fatto Che comunque Non siamo tutti quanti Atleti professionisti E non tutti Che possiamo permettere Di vivere una vita Comunque siamo lavoratori O siamo studenti O comunque Non ci possiamo permettere Di dire Ah ok No io faccio il bodybuilding Punto e basta Io o vado in palestra O dormo Non esiste Non è così Quindi se voi Se voi Qualsiasi persona Cerca Non lo so La formuletta perfetta Di qual è La cosa meno stressante La cosa che impatta Di meno A livello stressorio Non esiste Perché la vita Cioè ogni giorno È differente Per una questione E per l'altra Cioè pure io Che lavoro comunque Cioè che lavoro in palestra Comunque cioè Sono mille cose Quello che succedono Che ti portano A avere giornate Completamente differenti Uno dall'altro Sì Quindi Quindi La prima cosa A cui pensare Secondo me Dal punto di vista Del recupero È Buttare Di avere Un diario Dove uno Ha scritto Tutte le cose Che deve fare Durante la giornata Pianificare Le cose Che ha da fare Durante la giornata E le cose Che deve fare Durante la settimana In questa maniera Tu hai Ben preciso Più o meno Quali momenti In quali momenti Ti puoi allenare In quali momenti Puoi recuperare Quello già è tanto Secondo me Che fa Sì Allora sì Io Cioè sono d'accordo E In linea generale Però il discorso È che Allora L'esempio del dire È per recuperare Al meglio Tu devi Non lo so Allenarti Nel momento In cui Clicchi meglio A livello Il sistema nervoso Autonomo E Devi riposare Quando hai la botta In parasimpatico Vai dopo L'allenamento Mangi Poi ti metti A dormire O ti metti A rilassarti Eccetera Per un'oretta Poi dopo Fai il lavoro Poi dopo Ci metti Il cardio Piuttosto che La camminata La passeggiata Eccetera Logicamente Tante persone Lo vediamo anche Col coaching Ti dicono Sì bella Io mi alleno In pausa pranzo Poi devo riattaccare Al lavoro Cioè o dormo Mi alleno No Come tante altre cose Per cui secondo me È vero Il discorso Che bisogna Rapportare Il punto però È che Il discorso Dello Stress È Secondo me Un problema Molto più grande Cioè va visto Come un problema Molto più grande Del solo recupero Nel bodybuilding Ossia il recupero È soprattutto Inficiato Non tanto Da quello che Effettivamente fai O come è organizzata La giornata Quanto i tuoi livelli Di stress In termini di Quanto patisci Quello che stai facendo Cioè se ti stressa Fare Cioè se stai Giù a terra Se è enjoyable Quindi gradevole La tua Giornata Eccetera Eccetera E il problema Principale Che A un certo punto È il discorso Che si deve fare È sti cazzi Di quanto impatta Sul bodybuilding Il problema è che mi impatta Proprio nella vita In generale Nel senso che Ci sono un sacco Di evidenze Io sto iniziando A approfondirla adesso Come discorso Veramente E magari ci farò Dei video Degli interventi Però Tante evidenze Che Lo stress Inteso anche Come i nostri pensieri Pensieri positivi O negativi Siano con cause Di tantissime malattie Tra malattie neurodegenerative In primis Che tu dici Può essere una correlazione Evidente Diverse forme di tumore Come in primis Il tumore Al colon E tante 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 altre forme E così Come anche malattie Metaboliche Stati di depressione Eccetera Eccetera E questo Non in base a quello Che fai nel quotidiano In base al fatto Che comunque Siamo in un contesto In una società In cui Ti fanno passare Il messaggio Che per essere Una persona Di valore Devi essere Una persona impegnata Cioè una persona Che fa Che fa tante cose No Cioè quante persone Si sentono Tipo Ah oggi non ho fatto niente Oggi non sono riuscito A combinare niente Ero stanco mentalmente Ero una giornata buttata Di qua di là No cazzo Una giornata in cui Ristanco mentalmente È come Se vai in palestra E non riesci a sollevare Allora cazzo Stai a noverrici Cioè fai qualcosa Ma non è che hai buttato La giornata È semplicemente Che sei arrivato a quel punto Quindi hai bisogno di riposo Per cui Io quello che sorto a fare Prima di ragionare molto Su come impostare Il recupero in generale Che possiamo stare a parlare Di 70.000 strategie È Impostare dei capisaldi Del vostra vita Proprio Quotidiano Che vi permettano Di affrontare meglio La giornata Come può essere Allora Avere Io vedo Ti faccio un esempio Quando io imposto La mia agenda In generale Della settimana O della giornata Ma più in generale Io lavoro sulla settimana Io la prima cosa che faccio È segno I momenti che sono per me Cioè io so Allora da quest'ora A quest'ora Riposo Da quest'ora a quest'ora Non lavoro Stacco il cellulare Questo giorno Esco fuori Faccio qualcosa con Giorgia Da quest'ora Tipo dalle 18.30 Si cena Che poi può essere Ogni tanto le 19 Per carità Però si cena E da quando ceno Io non lavoro più Che non faccio più niente Non esiste Quindi parto da questi Che sono i miei momenti di relax Attorno a questi momenti Costruisco i miei impegni Invece la gente fa il contrario Prima mi metto i miei impegni E poi vedo dove posso rilassarmi Che Cioè Lavori per te stesso Sì No no è logico Però Parti dal presupposto È logico È un discorso Che si fa molto più A self employers Come possono essere anche Dei coach Che magari ci ascoltano Eccetera Se è un lavoro Cioè gli orari Eccetera Però anche Negli orari Cioè la cosa Il concetto è proprio Cercare di identificare Dei momenti Che tu dici Guarda io da questo momento In poi non ci sono O da questo momento Ma non Della serie Con mia moglie Guarda non mi rompere il cazzo Eccetera No da questo momento in poi Capito Non voglio far passare Questo messaggio È proprio Della serie Cioè ho mia moglie Le dico Guarda io da quest'ora A quest'ora sono tuo Cioè stiamo insieme Facciamo qualcosa insieme Che ci rilassi Che piaccia a tutte e due Perché ho bisogno di ricaricare Perché Il discorso è che Di nuovo Parto logicamente più Per i self employer Quindi i lavoratori Improprio E comunque È difficile Cioè escono proprio I termini inglesi così Me ne sto rendendo conto Durante il podcast È proprio difficile Farci caso Comunque Lavoratori improprio Partono scrivendo Tutte quello che devono fare Cioè allora Devo fare questo impegno Questo impegno Anche quello che in poi Hai detto te Cioè scriversi in agenda Le cose che devi fare E se Vedi là da un punto di vista Proprio distaccato Facendo un passo indietro Cioè La tua priorità nella vita È scrivere quello che devi fare E Perché lo stai facendo questo Per guadagnare Per goderti la vita E non ha senso Cioè tu devi partire Cioè il tuo Punto di base Cioè È logico Il consiglio che hai dato Un consiglio sensato Eccetera Però io dico Proprio come forma mentis Il tuo punto di base Deve essere quello Di mettere nero su bianco I momenti che ti permettono Di godere la vita E le cose che ti permettono Di godere Che può essere anche Guarda io Domenica Non ci sono per niente nessuno Perché la domenica Faccio la getta fuori porta Con mia moglie E una volta andiamo a Viterbo Un'altra volta andiamo a Nepi Un'altra volta andiamo Dove ti pare Però ogni volta C'è Quell'evento Una volta andiamo a Rainbow Magic Land Sto dicendo cose vicino Roma No? Fare cose diverse E questo è Però ho bisogno Di quel momento Per ricaricare Quindi la prima cosa È identificare I momenti che ti permettono Di ricaricare Perché Ok Vai a fare una passeggiata fuori Se è un qualcosa Che ti piace Veramente tanto Ti ricaricherà molto di più Di stare con la pancia all'aria In casa A non fare niente Oppure avere mille preoccupazioni Mille pensieri Quindi partire da Da queste cose E cercare anche di capire Su cosa intervenire Cioè quali sono le cose Che stressano di più Cioè per me È una cosa che stressa Tanto E questo faccio un discorso Un passo avanti Sto facendo un discorso Perché è l'esempio Che mi viene in mente Un po' più di business La cosa che stressa Che stressava più di tutto Erano Tante cose Dico pseudoburocratiche Tanti affari eccetera Che mi tenevano La testa sempre accesa Sul lavoro Cioè che qualsiasi momento C'era sempre qualcosa Qualche cazzatella da fare Eccetera Io l'investimento più grande Che ho fatto nella mia vita È prendere una segretaria Che si occupasse di tutto questo E esempio classico Erano i problemi Su Rhino Nation Cioè una persona Che magari si collega Che la cosa più classica Ok Arriva la mail di conferma Tu devi cliccare Sulla confirmation email Ok Questo qualsiasi sito Lo fa fare Per verificare Eccetera Il problema è che Le caselle di post Automaticamente le mettono Sull'indesiderata Però adesso Le caselle mail Hanno Indesiderata Junk Newsletter C'hanno tante cartelle diverse Quindi potrebbe finire in qualsiasi Normalmente le persone Cercavano indesiderata Ma non vedevano Tutte le altre cartelle Quindi io passavo Serate In cui aprivo C'avevo direct Intasato di persone Non trovo la mail E io devo stare là A rispondere Perché poi mi sale l'ansia Perché dico Se ho aperto il messaggio Comunque domani me lo scordo O comunque la persona ha visto Che ho aperto O comunque E ricevo queste cose Quindi Preso la segretaria Tolto le notifiche al cellulare Sono state due cose Anche togliere le notifiche Whatsapp e Instagram Due cose Che mi hanno Completamente rivoluzionato la vita Completamente Cioè ho buttato via Tantissimo stress Ma veramente Veramente tanto E questo Per molte persone È un esempio di come A livello lavorativo Di impegni di cose Fai esattamente le stesse cose Però sei molto meno stressato E il recupero migliora Ci sta Sì sì In realtà Possiamo dare Anche tre Dispunti differenti Perché siamo Tre persone Veramente Differenti Perché comunque A me mi rendo conto Lui del discorso Che hai fatto Però credo Che questo sia Un discorso Più da avanzati C'è nel senso Una volta che tu sei Un self employer Quindi che lavori Per te stesso Che hai il tuo business Che va E che puoi Tra virgolette Decidere Quando E come gestirti Allora va bene Questo vuol dire Comunque Già Tra virgolette C'hai il Sei parato Nel senso Già c'hai Qualcosa dietro Che ti dà la possibilità Di andare Di stare più tranquillo Sì sì L'ordine mi sembra Che tu lavori Davvero Quindi l'ordine L'altra parte Della medaglia Diciamo Perché Devi Devi saperti Devi avere Maggior Non maggiore Organizzazione Perché In entrambi i casi Deve averla Allo stesso Allo stesso modo Logicamente Sai che tu Per quel tot di ore A quell'orario Non ci sei Sei impegnato Cioè nel senso Io La fortuna Prima la chiamavo fortuna Adesso la chiamo Un po' meno fortuna Perché Impatta molto Sul recupero Faccio i turni Però comunque Svegliarsi le 5 Ragazzi È tassante A livello fisico A livello di recupero È tassante È vero che comunque Alla giornata Poi è il pomeriggio libero Però Comunque Tu togli delle ore Di recupero Al tuo corpo Hai Ok Ho la possibilità Di stare di più Con le mie bambine Di avere un po' più di tempo Per allenarmi Quello sì Però la sera Ricotto I tempi Per rilassarti Sono pochi E viceversa Idemo quando fai pomeriggio Riesci a dormire un po' di più Riesci a allenarti Sei un po' più tranquillo Guarda Praticamente adesso Che sono un po' più vecchio Preferisco Il turno del pomeriggio Praticamente Perché riesco a dormire un po' di più Al mattino Riesparmi un po' più tranquillo Al pomeriggio sì Sono al lavoro Torno tardi La cosa brutta è che sto meno con la mia famiglia Perché le bambine Io logicamente le porto a scuola Però poi io Non le vedo Perché torno a casa la sera Sono a letto E comunque Mi pesa Mi mancano Mi pesa Sotto il punto di vista Infatti guarda Anche lì Conosco parecchi ragazzi Che Comunque Gente che si allena Alle 5 di mattina Perché Il turno del Fare la giornata Il lavoro La classica giornata Quindi dalle 8 Alle 17 O anche 18 O anche 19 Quindi Per problemi di tempo Organizzativi Preferirei allenarsi La mattina alle 5 Torno a casa Magari alle 7 Le 8 Vuole stare con la famiglia Però logicamente Sono stanchi Anche con la gente lì Come fa a recuperare Allora È come Secondo me Lodovico ha detto tutto Avete già detto tutto Ma è come Vi approcciate alla vita Se voi avete la possibilità Cioè Come affrontate la vita Cioè il Il mindset Ma non il mindset Il bodybuilding Il mindset di Affrontare la vita Con il sorriso Poi le giornate no Ci sono Però Dovevi renderci conto Che Dobbiamo essere Dobbiamo ringraziare Essere fortunati Perché comunque Abbiamo la possibilità Di fare ciò che ci piace Di avere Cioè poi Che hai la possibilità Di avere un lavoro Di avere una famiglia Comunque di poter Organizzare il tutto E Il pensare al recupero Però non deve essere Una cosa controproducente Non deve crearmi stress Cioè Se io comunque Ho la possibilità Di allenarmi Di riuscire A incastrare il tutto Farlo nel migliore dei modi Senza essere stressato Cioè Mi deve pagare Mi deve Io devo andare la sera A letto Che sono tranquillo Sereno Poi comunque L'organizzazione Prima di tutto Però è il come Si affronta la giornata Cioè Perché se tu Comunque già ti svegli Al mattino E dici Cazzo Scusate la parola Devo Oggi Devo allenarmi In quest'ora Poi però Devo fare in fretta Perché Inizio quest'ora A lavorare Poi non ho il tempo Di fare la penichella Cavolo Il pasto Mi slitta due ore Alla sera Arrivi che La testa Sei pieno Dirigi nel letto Non riesce a dormire Perché accumuli stress Non funziona così Secondo me No no Totalmente d'accordo Da un concetto Di testa Poi l'integrazione E poi Comunque Sottolineo Il discorso Che ha fatto Rodovico Sulle malattie Neurodegenerative Parkinson Alzheimer E molte altre Sono date Comunque In parte Da Da stressor Tratti per tempo Poi è vero C'è una questione chimica E tutto Però È come gestiamo Noi la nostra vita Sì Secondo me Il discorso È proprio Dal punto di vista Del reguvero Che Guarda Allora Mettendo Allora Qui diciamo Che Avete tre Differenti Situazioni Quindi Il ragazzo Che lavora Che è self employer Però che Sta cominciando Tra virgolette Ora A fare Diciamo A creare Tutto il suo business Quindi Io comunque Ancora Devo No io sono contentissimo Del lavoro che faccio Però mi rendo conto Che molte volte Devo Correre dietro I ragazzi Che seguo Cioè comunque Se un ragazzo Dice Mi posso salenare Ma solamente a quest'ora Gli devo dire di sì Perché comunque Questo è il lavoro mio Il lavoro mio È portare i risultati Ai ragazzi E le ragazze Che seguo Quindi io non è che A ragazzi Posso dire No io mi devo allenare A quest'ora Dico no Perché io devo fare Di sogno Cioè non esiste Non esiste Capito Vado in palestra Magari invece di Prendermi la Sufaganda Post-workout Mi faccio la Monster Zero Però Cioè È così che funziona Quindi avete Il Tra virgolette Il consiglio Che posso dare io È quello Veramente di essere Il più organizzati Possibili Quindi veramente Farsi Non vivera la giornata Cercate magari Veramente di farvi Il piano Che poi Un minimo Può sempre Strittare Però comunque Avere una Un canto Veramente aiutare Anche perché dopo Si può passare Al discorso Che fa l'uno Che è proprio Quello di dire Ok una volta Che tu Hai settato Tutte le cose Che inevitabilmente Tu devi fare La prima cosa Che devi fare È Prenderti I tuoi momenti Certo Quindi segnare Sull'agenda Quali sono i tuoi momenti E poi dopo Alla fine Andare a fare Tutto ciò Che magari Ti Non so Come potrebbero essere Cose Dettagli Come potrebbero essere L'allenamento Come potrebbero essere Il pisolino Come potrebbe essere Quando devi mangiare Tutti i meal Pre Post Workout Tutte queste cose Così Questo secondo me È il take away Più grande Che possiamo dare Da questo punto di vista No no 100% Ma io anche all'inizio Così eh Non voglio che si fraintenda No sì L'inizio era Tutto il giorno in palestra Che stai A volte c'è All'inizio Inizio era Vai a prendere i ragazzi Che arrivano in treno Perché vengono Da nord e tutto Li porti in palestra Ci stai Poi ritorni Cioè Sì 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 Ci sta Ci sta A piccoli stelle Secondo me anche il discorso Che ha fatto Lore Comunque le persone Che lavorano Che lavorano Che lavorano in quei giorni Cioè arrivi veramente A crearti Un 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 circondario Un environment Intorno a te Che deve Tutto funzionare Perfettamente Fondamentalmente Perché Poi soprattutto Se hai famiglia Comunque Cioè Le cose principali Diventano altre Non so più Un allenamento In realtà Perché io penso Adesso non lo so Poi magari dimmi te Lore E' una domanda Proprio Super genuino Se tu c'era possibile Capibilità Un giorno Di stare Non lo so Due ore in più Con le bambine Piuttosto che Fatti Non l'allenamento Penso Sì Comunque Io guarda Sono sul Sul programma Alleamento Sono ligio Ma perché Non avendo Guarda Io Tra virgolette No è brutto Dire solo Alleamento Però io Cerco di essere Atleta A 360 gradi Però Rispetto al programma È tutto Però Logicamente La priorità È la mia famiglia Le mie bimbe Cioè Io Quando Quando posso Riesco Sto con loro Cioè Poi comunque Loro Sono in tre Hanno i loro impegni C'è chi va In ginnastica C'è chi va in piscina Devo diventare Un po' più ligio A fargli fare i compiti Quello Un po' più È un po' più Brava guy di me Anche perché Io ho poca pazienza Su quello Infatti hanno paura A fare i compiti Con me Però Però Organizzare il tutto Ammetto che è difficile Difficile Se devo fare un back off In cui scarico il 20% Del carico Quanto devo mettere? Quanto metto sul back off? No poi Comunque Ho il vantaggio Comunque Quello che faccio Alle mie piccole Sono appassionato Cioè Gli piace Oggi Gli facevo vedere Dei video su youtube Dei podcast E tutto E c'era la più grande Che guardava Aspettava che parlassi io Perché gli piace Gli interessa Anche quando vedono Le mie gare Gli faccio vedere I video Cioè Gli piace Le coppe Anzi Loro addirittura Quando io vado ad allenarmi Ma poi va al lavoro No amore Magari Andassi al lavoro No no Perché Perché Dico Papà fai gli elicotteri Ok però L'allenamento È una passione È un'altra cosa Però Non cambierei nulla Che figata Comunque Papà fai gli elicotteri È bello Diece Capito come? Va bene Se fosse Magari Fossi Libero professionista Impatterebbe Magari Sarebbe Sarebbe Diverso Forse Non lo so Magari Sì Avrei più Recupero Sarebbe L'antretta Migliore Io ho Costruito Questo Mi tengo Stratto Questo E Cerco Di Prendere Il buono Il meglio Che c'è E questo È il mindset Che Dovrebbe Avere La gente Ci sta Siamo Alla prossima Ok Mi devo Incazzare Tiro fuori E questa è la domanda Mi devo incazzare Il Kraken O che devo Ditemelo voi Vai 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 Ancora Il Federico Pagato Oppure Deve vedere Il Kraken Che esce Tiro via tutto Alla Di set Ditemelo voi Vai vai Siamo curiosi Siamo curiosi Ok Ciao Fede Domanda su Enhance Che già No vabbè Quando iniziare Vantaggi E svantaggi Quindi C'è stato Un post C'è stato Un C'è un Sul Sul log Di Rino Nation C'è una sezione Dove ne parliamo E Digli Iscriviti Leggi Perché Tra l'altro Aspetta Non mi ricordo Il nome Alberto Alberto Ha concluso Ha chiuso La discussione Con Se vuoi legge Una domanda precisa Però È un discorso Antissimo Sì Io guarda Io la cosa Che ti dico Vabbè A parte La prima cosa Valutare Come al solito La legalità Del paese In cui stai Questa è una cosa Che fa una bella differenza Però C'era un Vi chiedo Questa Perché c'è Mi hanno fatto Una domanda Del genere Di un Q&A Ha detto Quando iniziare E avevo dato Una risposta Dicendo che Ci sono molte cose Soggettive Il quadro è molto Ampio Non è che puoi dire Succede questo O devi iniziare Quando E c'è una persona Che mi aveva scritto Su Direct Indignata Perché innanzitutto La domanda era Quando E non se Quindi Si dava scontato Che iniziassi Vabbè Poi dicendo Che lo sport Cioè Sport e doping Sono due cose diverse C'è una cosa Che non deve essere fatta E il divulgatore Dovrebbe disincentivare E anche perché È illegale Io gli ho detto Guarda Sincero Io sono in un paese Dove è legale Quindi Frega cazzi Se è legale Una persona lo vuole fare Perché io devo disincentivare Cioè Non Cioè nel senso Sono cose intime Della persona Ok Anche perché poi La cosa che di nuovo Si perde sempre È che Dire un atleta in hand Sta a dire tutto e niente Perché di che stiamo parlando Che ti fai Mezzo grammo di testo Una volta all'anno Per vedere Oppure che passi in TRT E ogni tanto fai un blasting Aggiungendo un po' di primo O stai parlando di Cercare di raggiungere l'Olimpia Buttandoti a 5 grammi di prodotti Cioè Sono due scenari Completamente differenti Quindi Anche là Che risposta posso dare Ci sono tante cose Che devi valutare Io la prima risposta Che darei È che se ti fai una domanda Del genere Vuoi veramente diventare Nansed Questa è la mia prima domanda Che farei Alla persona Che mi ha scritto Questa cosa Perché se te stai Io parlo per tutti quanti Quando uno ha deciso Di diventare Nansed Non era solamente un tarlo Nella testa Era proprio Dice Non muovo Io lo faccio Sì Sì L'unica cosa Che aspettavi Era che qualcuno Capito Magari Ti dava corda Quindi diceva Magari Come si faceva Però il discorso Era proprio Io mi ricordo Con lui Io ho detto tranquillamente Io voglio Fa sto passo Cioè non era quando Sì Era come Sì guarda Io credo che il discorso sia Qua in UK È molto più easy Perché è socialmente accettato Innanzitutto Cioè nel senso Se tu parli con qualcuno E ti dice Che prende tot prodotti Sti cazzi Ti ho visto Che stavi sulla squat Facevi questo Per me che prendi 5 grammi O che prendi 2 grammi Non toglie che stavi sulla squat A farti il culo Cioè non è che Ah vabbè allora Grazie che ti dopi No Quindi questo cambia molto Lo scenario per le persone qua E anche il discorso Che di base È semplice procurarsi Cioè io Per molte persone in Italia Mi immagino che Il cosa principale sia Ok È come Mi immagino Se io stessi in Italia O anche qua Forse non lo so Però Metti conto in Italia Nel mio paese Sto e dico Ok voglio iniziare a Che ne so A farmi di coca Ok La prima cosa che mi viene in mente Ok Ho deciso di farlo Premettendo Per tutti quelli che ascoltano Che è illegale Ok non sto incentivando niente Non so quanto si possono dire Ste cose Comunque La prima cosa che mi viene in mente È Ok dove la prendo Cioè capito Che vado in discoteca Alla gente Oh ma ce l'hai la coca Oh ma ce l'hai la coca Capito Quindi credo che Quindi credo che molte persone La vedano In maniera molto Complicata Quindi questo è Un discorso Che sicuramente Si inserisce Per molti Però io la cosa che dico È Ci sono tante Tante sfaccettature E di nuovo Nella conversazione Su Rino Nation L'abbiamo un po' Sondate tutte Io do soltanto Questo consiglio Che credo sia Il più prezioso In assoluto Che è nel momento In cui decidi Di iniziare Prenditi Un tot di tempo Per esempio Un anno Ok 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 Dici Ho deciso di iniziare Mi prendo un altro anno Di tempo Per informarmi Vedere eccetera Se alla fine dell'anno Sono ancora convinto Allora inizio E anche là Distinguete Sempre Cioè Non si può dare una risposta Perché Di che cosa stiamo parlando Del ragazzo Che è un talento Che vuole provare Ad andare all'Olimpia O quello che vuole Provare Però Cioè Molto easy Giusto per dare Quel Quello spice up In più A quello che sta facendo Sono due scenari Completamente differenti Perché Di nuovo Io faccio l'esempio Della droga ricreativa Che è tutt'altra cosa Logicamente Non voglio incentivare Però È uno che vuole provare A fumarsi una canna O uno che vuole diventare Un addicted Capito Il discorso Di dove si Dove si ricepisce Sì Sì Il discorso Che facevi Sì Non deve essere Un capriccio Deve essere Una scelta ponderata Cioè Non deve essere Il capriccio Che dice Ok lo faccio così Poi magari Tra una settimana Un mese Tre repenti Deve essere Una cosa ponderata Ma al di là Degli effetti collaterali E tutto Poi davvero Adesso Adesso A giorno d'oggi La possibilità Di informarsi Di cogliere Le informazioni C'è C'è Saperle trovare Tutto Sapere i pro E contro Ci sono Ci sono Secondo te Lore La gente però Ha cognizione Di quelle che sono I contro Io vedo che Il discorso Dei side La gente Non Lo sa generalmente Ma non capisce Il peso E li sa Li conosce Quando poi Li vive Sulla propria pelle Ma il problema Che poi Quando arriva È proprio Tato Perché Allora Stiamo onesti Cioè non giriamoci intorno I side Arrivano a tutti A chi più Chi meno Arrivano E guarda Per la stragrande Maggioranza Della gente Che conosco Sono pesanti Perché Purtroppo Non Questo percorso Lo fanno male Nelle mani Sbagliate E poi Successivamente Ne pagano le conseguenze Le cosiddette Meteore I ragazzi Che scoppiano Che magari Hanno anche Un ottimo talento Genetico Nelle mani Sbagliate Durano un anno Poi spariscono Spariscono La gente Purtroppo Non 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 le conosce E davvero Finché Non le vive Sulla pelle Non Non gli interessa Non gli interessa Comunque questo In tutti e due sensi Perché poi ci sono anche Tante altre persone Che Si inventano proprio Cioè Soprattutto quelli Che Non Che hanno già Per partito presso Non vogliono usare E sono Pro Natural E quindi Di A Tutti Dopi Siano Merda Sono anche Quelle persone Che si inventano Dei side Che succedono Quando sono Completamente Sconclusionati Sì Di messaggi In cui dicevano cose No sense No sense Complete Ma no Perché Allora Perché Comunque Il discorso Enansed Parliamo di chimica Parliamo di chimica Ok La chimica È chimica Cioè nel senso Gli ormoni Gli ormoni Gli ormoni Gli ormoni La fisiologia È quella Il problema È che Comunque C'è la soggettività Di ogni persona Di ogni atleta Di ogni ragazzo Che impatta tanto L'anamnesi La storia clinica Comunque Va valutata Iniziare un certo Tipo di percorso Se tu hai un problema A livello A livello Se hai comunque Problemi Di Parkinson Di Alzheimer Di problemi mentali In famiglia Il I progestici Non dovresti toccarli Minchia Capito Neurodossici Va Infatti Va valutato tutto Cioè Ragazzi Non Il discorso Come E quando iniziare Cioè È un discorso ampio Poi davvero Come diceva lui Come diceva anche te Dipende uno Obiettivo A Ma ecco La cosa Io Giusto questo Io vedo che A parte la gente Non si rende conto Quanto Sia Impegnativo Fare questo percorso Fatto bene Da un punto di vista Proprio di Iniziare a fare Analisi Controlli E utilizzo di OTC Quindi di Over the counter Che sarebbero Gli integratori Banalmente Libera vendita E Cioè Partono soldi Ma soldi veri Cioè le analisi periodiche Costano Quel centinaio d'euro Per un pane Ematico abbastanza completo Te lo spendi Anche 150 E devi farlo Con una certa cadenza Gli integratori Le SAP Per comunque stare appresso A tutte le problematiche Che ci sono Cioè Devi abbondare Anche là Quindi Questo secondo me È un discorso Che c'è Da una parte La gente Sottovaluta Nel senso Dice Eh vabbè Sì vabbè Ci sono problemi Al fegato E reni eccetera Però prendo Quest'integratore Prendo quest'altro Prendo che ne so Quel prodotto Cycle support Di quel brand E sto a posto Ok Il fegato a posto Questo è Poi le analisi Le faccio una volta All'anno E poi Arriva il pane Ematico Transaminasi A 150 A 200 Vabbè Le transaminasi Stanno così Perché prendo Il colesterolo Sta così Perché prendo L'ematocrito È alto Perché prendo Tutto a posto Regolare Sono un bodybuilder Provetto E quindi c'è Il sottovalutare No? Le problematiche Dall'altra c'è Invece Gente che sopravvaluta Cioè che c'ha l'idea Che se tu stai Appunto Fai una TRT Decidi Per esempio Uno scenario Che io Ho visto molto spesso Di persone È che hanno detto Guarda Io ho Che ne so 35 anni Mi faccio una TRT Oppure ho anche 30 anni Quello che è Decido di passare In TRT a vita Ok Perché mi sono documentato Un anti-aging Che voglio fare Scelta mia Però on top Ogni tanto In base all'analisi Eccetera Ci aggiungo Qualcosina Alzo un pochetto Stiamo parlando Di 500 milligrammi Totali Di 600 700 Quello che ti vale No? Una volta all'anno Eccetera E la gente C'ha l'idea Che Ah Sei dopato Morirai Ah Sei là E muori tutto quanto Il fegato è distrutto Anche te meno A me mi sono arrivati I messaggi Ho scritto Ah Tu sei passato In TRT In questa maniera Ti sei rovinato Il fegato a vita Sì Allora Allora Aspetta Io ti dico questa cosa Ovviamente da un punto di vista medico Ah io non sapevo niente Io sto Dovevo firmare Quando avevo firmato Non so niente Guarda Te la banalizzo Ma proprio super banale Te la faccio come cosa Ok Quindi da un punto di vista medico Sto dicendo delle cose Probabilmente a me Distruttive Se siete medici Non fateci caso Però te la sintetizzo Il trapianto per il fegato Si prende Si stacca un pezzo di fegato Di una persona Sana Si dà alla persona E L'altra parte del fegato Si rigenera Quindi questo Fa il fegato Cioè nel senso Il fegato sta a questo livello Capito C'ha un potere di Rigenerarsi Immenso Quindi è questo il discorso Che faccio Che c'è chi sottovaluta E chi sopravvaluta E secondo me il problema È che Non c'è realmente Abbastanza cognizione Di quello che c'è nel mezzo Io questo vedo Non arrivano le giuste Informazioni Anche perché Una cosa che sottovaluta tantissimo È questo discorso della TRT Di nuovo Sottovaluta La gente dice Vabbè prendo Poi a un certo punto stacco E ripartirà Cioè no Non è che dopo T'ho tempo che stacchi Non è detto che ripartirasse Ma Cioè dopo un po' di sveglie Che gli dai Ciao al asse Cioè Ma anche Anche chi fa la TRT Che comunque Dice Boh A 25-26 anni Inizio Mi faccio la TRT Poi Tutto sommato Tra 32-33 anni Perché Spero sia una cosa Auspicabile Che Poi sto povero Cristo Trovi Una donna Che lo sopporti E giustamente Magari sta donna Vorrebbe Mettere la sua famiglia Ma sto disgraziata Dopo dieci anni Di TRT Fatta così a cazzo Logicamente Scende lo spirito santo Perché probabilmente Lei rimarrà incinta Il problema Che anche lì No deve iniziare Deve iniziare una terapia Deve iniziare la terapia Perché è come tutti Cioè ipoconadismo Tu c'hai ipoconadismo Cioè ti condanni Però allo stesso tempo Come molti la sottovalutano Come cosa Anche chi la sopravvaluta Che pensa Come dice Fede No TRT a vita Oddio Che cos'è Cioè nel senso Per carità Io non voglio indurre Però Per farvi rendere conto In un esempio Qua ci sono le cliniche TRT In cui le persone In autonomia C'hai 30 anni 35 40 Quello che ti pare Dicono guarda Io sto iniziando A avvertire un calo di libido Per dire no Per dirne una Oppure Mi vedo che sto perdendo Un po' massa muscolare Voglio entrare in TRT a vita Perfetto Terapia anti aging Nasce così Non è che è una Quindi Eh però Qualcola che comunque In Italia Già Trovare medici Che Ti mettono in TRT Hai comunque Un Un disagio Hai comunque Una patologia È già difficile Sì 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 Cioè purtroppo Anche a livello medico Assolutamente A livello andrologico Non C'è Non c'è Molta Propensione A questo tipo di Poi in Italia Mi sembra che utilizzano Sempre il testo gel Sì O se no La maggior parte Cerca di farti ripartire L'asse Con i Clomid I gonasi No Il clomid è ottimo Il clomid sì In teoria In teoria Se uno volesse Riprendere l'asse Non deve toccare nulla Deve solo usare il clomid Avere pazienza E usare il clomid Punto Il gonasi Il gonasi serve Se senti RT Per prevenire La profia testicolare Perché il testicolo Logicamente Stando in RT Tu crei un danno C'è un danno A livello testicolare Lo vedi solo Unicamente Con un'ecografia Di testicoli Perché il testicolo Se scende sotto Un certo volume Tu non lo recuperi Oddio C'è gente Che dopo magari 4-5 anni Di Enhanced Si ferma Stop E recupera Ma anche lì Il recupero È soggettivo La cosiddetta PCT Come diciamo sempre Io con la PCT recupero No Tu con la PCT Recupri un pacco 6 settimane di PCT Con la PCT Tamponi Il periodo Da ipogonadico Che avresti Staccando di botte I prodotti Punto C'è il recupero Poi è soggettivo C'è gente che recupera C'è gente che Si deve mettere In TRT a vita Ma su quello Cioè Poi come Cioè In America In UK La TRT Le cliniche Sono Il discorso Il medico Già studia Già le studia Queste cose Perché comunque È un qualcosa Che funziona In Italia È visto un po' Come un tabù Cioè siamo onesti Anche il discorso È in Hansed Probabilmente perché Comunque La legislatura Non lo permette E tutto È visto sempre Come un tabù Cioè È per quello Che comunque Anche il ragazzo Che si vuole Approciare questo mondo È visto come Il drogato Perché è sbagliato Perché è diverso Andare in discoteca Sballarsi E essere uno sportivo Cioè È un discorso Completamente Agli antipodi Sì È complicato È complicato Sicuramente Merita più tempo E nel senso Prendete molto Con le molle Quello che abbiamo detto Fino ad ora Perché sicuramente Ogni cosa che abbiamo detto Andrebbe argomentata molto Perché è un argomento Molto delicato Non prendetela come Sottovalutare I danni Da parte nostra Oppure per far stare Il messaggio Che è una cosa Che si può fare Tranquillamente Come l'acqua di rosi Perché come abbiamo detto Cioè comunque È una cosa Che deve essere fatta Consenno Monitorare Sì a parte Il discorso della legalità Consenno Monitorare Analisi Tutte queste cose No no Anzi Come dicevi te Pocanzi Il discorso è che Tanti sottovalutano Cioè pensano che Passando alle nasce Diventi un supereroe E ti si aprono tutte le porte Non è così Cioè come hai detto te Ragazzi Cioè A livello di integrazione OTC Cioè Io sono onesto Si spende dai 3-400 euro Solo di integrazione Di antiossidanti E tutto Più ti devi mettere Anche gli esami Cioè tu Io vedo gente Che spende 3-4-5 mila euro Per le preparazioni E poi non ha 100 euro Per farsi un controllo Ogni 2-3 mesi Eh con 100 euro Ci confondere Baial Eh sì Sì Purtroppo sì Cioè Mettete a posto Tutto il contorno Poi dopo pensate al resto Esatto Comunque penso che La risposta Alla domanda Più Migliore È stata quella dell'Udo Che ha detto Cioè Dal momento che pensi Che vuoi intraprendere Quella strada Prenditi un anno Studia Tutto quello che c'è da fare Chiedi in giro No dal momento in cui hai deciso Eh? Dal momento in cui hai deciso In cui dici Io lo faccio Sì Ti prendi I tuoi 6 mesi Barra un anno Dove studi Ti prendi Ti fai tutte quante Le ricerche del caso E se a quel punto Hai veramente deciso Di diventare Un answered Here we go Quella è la strada A prendere Yes Continuo con le domande mie O vuoi fare Le domande delle due Così che Domanda che stiamo Eh un'oretta e mezza Dai vado Vado con le mie Che sono molto easy Allora ragazzi Vogliamo fare delle domande Un po' easy Anche per tagliarci Un po' alla fine insieme Per vedere un po' Anche che partorite voi Quindi faremo Dei Q&A Un po' Cazzeggio Quindi la prima domanda Che vi faccio A tutti e te È Di Nicola 1927 Che chiede Charmander Bulbasauro Squirtle Eh non lo so Vai Fede Regà ma stiamo A scherzare o cosa Charmander Di tutta la vita Ma regà Pure io Charmander Dai Ma cosa sono I Pokémon No Come Sì Eh mi spiace Ragazzi Io Avendo tre femmine Mi potete chiedere Eh Delle Barbie Di altri personaggi Vabbè ma quando Cioè non ci giocavi Quando sono usciti Al Game Boy Zero Io Io ero Kenshiro Al massimo Dragon Ball Vabbè Kenshiro Poi vabbè I Simpson Ma no I Pokémon Zero Ah cazzo Vabbè No no Non ti preoccupare Te lo scelgo io Te lo scelgo io Charmander Vabbè Comunque era Charmander Seconda battuta Era Squirtle Perché ti diventava Bastoaz Che era Era figo Ma Squirtle è un po' È un po' Così E Cibo Sempre Nicola 1927 Che ha fatto Due domande Cibo preferito Per un cheat meal Degno di nota Di noi abbiamo parlato oggi Allora sì No ti faccio anche a te questa domanda Lore Perché oggi è una problematica Tu immagina Che devi vivere in un'isola Per il resto della tua vita Che è fatta Solo Di un alimento Che Cioè non è una ricetta È proprio un alimento Che può essere o cotto o crudo No E tu mangerai Quell'alimento Per il resto della tua vita Quale sarebbe Di essere una cosa Che non ti stucca Cioè che puoi mangiare Proprio oltranza E non ti annoi mai Colazione, pranzo, cena Per il resto della tua vita Grazie È dura Ma Allora Potrei rispondere a una schifezza Ma no Perché poi starei male Per il resto della mia vita Quindi Quindi Era tutto il testo Sì Sì È vero che sei su un'isola da solo Però Cioè Vorrei campare Almeno il più lungo possibile Senza avere Proprio intestinali E tutto Guarda Veloce Senza farvi perdere tempo La prima Mi viene in mente Salmone affumicato Ah Sì Basso Sì O quello O se no L'insalata di mare Però quella è più una ricetta L'insalata di mare Sì Infatti Se invece vuoi stare sul Salmone affumicato Salmone affumicato La prima cosa Mi piace Perché nelle feste È una cosa Che non deve mai mancare Non mi stufa A parte Secondo me Non è Fortuna però Sono da solo sull'isola Corazzo di pranzi C'è una cosa Non affumicato C'è nell'acqua In bocca Che non Sai la pressione Altro che sopra E poi che bevi L'acqua di mare Che è ancora più salata Dov'hai? A meno che trovo Dovessi trovare Venerdì Sull'isola Il negretto lì Però Mi chiesto da solo Anche se provi Di alitosi All'appamento Fai niente Io ho detto A me La bistecca Cioè La cosa che non stucca E non stuccherà mai Che anche quando Sto in bull spinto Posso sempre mangiare L'outranza E la bistecca Non macinato Non creare Proprio la bistecca La ribai O la fiorentina Quello io All'infinito No io invece Andrei avanti Con la tozza dei pane Pani con l'olivo Fresco o caldo Ah ah sì O il tipo Il pane con l'olivo Oppure anche il pane Con gli esamini dentro Proprio Mi immagino io Con la mia bella Pagnotta sotto la scena Il pane lì Strappo e mangio Capito così Proprio Bellissimo Tutta la vita però Deve essere È questa la cosa È tutta la vita Non è che Tante volte Me lo faccio Dico a brustolito Capito Tante volte Invece poi Me lo posso fare Magari Lo inzuppo Capito Magari Nell'acqua No E invece Ricetta Quindi proprio Nicola ha chiesto Un cheat Quindi diciamo Quello che mangereste Per il resto Da vostra vita Allora io avevo detto Aspetta Che avevamo detto Era tipo mezza Io sono indeciso Tra lasagna E sì forse Ho detto Dio Cavolo Lo vedi tu Io ho detto Io ho detto Una cosa con ragù Capito Un primo con ragù Quindi O lasagna O moussaka Ah ok Sì Io Sì Sì no Assolutamente Noi praticamente Quando io ero piccolino Il giorno dopo Che andavo a scuola E si era fatta La domenica La lasagna Io avevo il mio panino Con la lasagna Minchia Scusa la parola I pane Con dentro la lasagna Fredda Il giorno prima Che poi è buona Il giorno dopo La lasagna comunque Rimane più compatta Ma qualcosa di fantastico Invece a me piace Il giorno Il giorno dopo però Calda A me piace calda La lasagna Calda? Sì A me fredda no Perché deve essere Proprio tutta Bella che si squaglia In bocca A me piace proprio Che fa il mappazzone Che si squaglia Potente Potente Io Allora A me è onesto La pasta Non mi fa impazzire Cioè se io Sono più da secondi Anche se non la disdegno Però Guarda Vado su semplice Fritto misto Sì? Vado sul sì Sì Cioè Io non so Cioè nel senso Proprio Hai scelto due cose In cui io non camperei Neanche una giornata Salmone affumicato Cioè fine Fritto misto Proprio morto No Fritto misto L'orè Sì Che buono No io no Io Il cheat meal mio Proprio Quello lì Che quando c'erò Sempre Le patate Le patate dolci fritte Quindi la sweet potato La patata americana Capito? Quindi le patate semplici La patata americana fritta A me quella lì Mi fa impazzire proprio Quella proprio Anche se mi dai Proprio una scodella Piena Così Anche da sole Senza salsa E niente Troppo Troppo buone Allora Cioè questa Un po' più permette Fede Non so Loria Devi eliminare Ogni loro strofa Dai pezzi del Truce clan O Cicoria O Noiz No Cicoria Tutta la vita A me non mi piace Cicoria Non ti piace Cicoria Io avrei detto invece Noiz Io preferisco Cicoria Cioè Noiz È più cattivo Però Cicoria Mi sa proprio di Cioè Vissuto Capito? Sì Lui è più vissuto Lui è più vissuto Noiz potrebbe essere un po' Cioè lo vedo Anche un po' Forzato Cicoria mi sembra Proprio uno che Cioè Vissuto proprio No io sono proprio Cresciuto con Noiz Cioè proprio No Sono andati a venire I concerti Le cose No a me Noiz Non me lo deve toccare Allora Simo Sì Le solite canzoni Senza Ascolti solamente Con i pezzi del Cicoria E solamente con i pezzi del Noiz Beh io Quando attacca Cicoria Mi fatterò io Cioè impazzisco Quando attacca lui Impazzisco Cioè è troppo È troppo Romano Senti proprio Brevetta Pisana Cioè senti proprio Quella zona Capito Quello strascico Un po' Del modo di parlare Lo senti Cioè te lo immagini Proprio al parchetto A trafficare Che roba A disotterrarla Cioè ce lo vedi Con North Face Il piumotto Mi vengono in mente Le cose Ah Simo Cave 95 Chiede Quanto cagate al giorno Differenza tra prep E bulk Ok Cambia tutto Considera Io Io sono Io non so Cagatore Il piumdario No Poco Io sono tipo Una spada Sono troppo bravo A cagare Cioè lo dico Proprio super proud Io sono molto bravo Io sono molto regolare Invece Devo dire Dopo colazione Aspetto tipo Dai 7 Ai 7 minuti e 30 Tazza del cesso Subito Proprio Sparato Proprio tutto il giorno Difficile Che forse Io Una volta Forse Due volte Io In cat Sì pure No io in cat Due volte In bulk Due volte Perché In cat Mangio molta verdura Quindi in realtà Vado proprio bene E La mattina Dopo il caffè E Dipende Quanto dopo In realtà Non è troppo Preciso E poi in genere Il pomeriggio Può essere Sì Verso Tra un po' Ragazzi Finiamo il podcast Devo andare Sì 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 Perché sale Il pranzo Eccetera Proprio Mi metto Ho il cellulare Sempre Me lo tengo carico Se scarico il cellulare Aspetto Me lo tengo E io devo andare là Con il cellulare E fare qualcosa Perché è tipo Un momento troppo in gioia Voi state Voi avete Riuscito a stare In seduto tranquilli Ah beh giusto C'è interruzioni No Io Devo Tipo Ci metterò Ma Cronometrati Ma neanche un minuto Ma che spada Sì Sì Avendo le bambine Poi non Non ho Non riesco A Quando ero bambino Sì No lo sai Però sta cosa Pure io per esempio Non Non so Non sto Sulla tazza del cesso Io in realtà No Telefoni Cose No Io sì Infatti Non da un minuto Non da un minuto Però Pensateci sempre Quando vi rispondo Whatsapp Ti immagini che c'è Tipo che ti rimane Sai la La cosa Sul culo La forma La forma Rossa No a me mi si addormentano Cioè io so A livello che mi si addormentano Perché io mi porto E sono cose di base Anche di lavoro No E quindi Entro proprio nel flow Perché proprio Sto comodo Poi rispetto al computer Prendo aria Cambio atmosfera No Quindi sto proprio Super concentrato E io smetto Quando a un certo punto Poi sempre la sinistra Di gamba Mi si addormenta E dico Cazzo Quanto sto Quello è il momento Che dici Cacchi Forse è il momento Che Allora guarda Ti dico questo In Giappone Loro c'hanno I bagni Quelli Le tazze Quelle che lavano pure No Ok Praticamente Che cosa In loro ce l'hanno Anche in tutti I supermercati Cioè non solo I centri commerciali Ma proprio il supermercato In genere C'ha Ovviamente no Il combini piccolo Proprio il supermercato Quelli grandi C'ha il bagno E sono con Quelle tazze E sono anche Super igienizzate Nel senso che tu C'hai accanto Lo spray per igienizzare Che utilizzi Sia prima che dopo Con dei fazzoletti Appositi Per pulire E igienizzare Super puliti Cioè fantastici Che si riscaldano Quindi quando ci siamo andati L'ultima volta Ci siamo andati Le ultime due volte Che erano entrambi Ottobre E novembre Quindi faceva freschetto E Entravamo al supermercato Io tipo Mi piazzavo là C'avevo il wifi La tazza riscaldata Mi puliva pure Cioè io ci stavo tipo Mezz'ora Ma tranquillo Ma te l'ho detto Lu Che il Su quel ristorante In cui sono andato Lì a Parigi Quello lì che faceva Finta di essere Giapponese Tsukiji Giapponese Sono andato al bagno C'era il cesso Giapponese No Ma serio Te lo giuro Ma devo andare Soltanto per riprovare Quel bagno Ma l'hai provato Pure con lo spruzzino Hai provato? Eh no Perché non mi scappava niente Vabbè Ma per cosa prova? Per curiosità C'è ragione Guarda che figo È potente Ma proprio un astronautico Però Stringi Perché se no Se non stringi È potente il getto È potente il getto È cattivo Cioè non è un gettino Tipo Tattattattata Cioè proprio Pah Quindi cioè Sì 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 Cioè devi aprire Però devi chiudere Capito? Cioè devi aprire le chiappe Però devi chiudere Se no proprio Cioè la prima volta È stato tipo Sì tipo All'angoletto Tipo sono stato busato Mi ha busato Il bagno mi ha busato Poi dice abito È tipo una cosa Troppo Rilassante Giuro Ma quello per esempio Se non ce lo volessi mettere Dentro casa? Te lo dico appena Compriamo casa Perché io ho tutta L'intenzione di farlo Mi stavo Credo sia un po' Complicato trovarlo Però Vorrei trovarlo Perché qua col fatto Che c'è È la svolta Perché non ti serve più Il bidet E secondo me Più che farsi arrivare Oltre al cesso Il bidet Qua in UK Che non so dove lo trovi E secondo me È l'attacco È? È l'attacco proprio? Eh Vabbè Tanto se è casa tua Butti giù i muri Che devi buttare Fai passare Cosa che devi far passare Non so Io ci spero Vedo Se è logico Se costa 10.000 euro Me la evito Però Se è una cosa abbordabile Cioè È troppo È troppo comodo Perché è pure riscaldato Capito? Quindi tu D'inverno Non c'hai quello Quello shock Che ti devi abbassare C'è tipo il freddo Ti piazzi E c'è tipo Invece vai tipo La lista è proprio tranquilla Mamma mia La soluzione Ma mi metterò pure Ma mi metterò pure La scrivania davanti Probabilmente Tipo estraibile No La metti davanti Con laptop Ok Mette della luce E dell'elettricità Che non si sa Che Quando arriva A manetta A manetta E Guarda Vi faccio Questa non è demenziale Però secondo me Dice Perché la gente Appena sali un filo di bf Per costruire Dice Stavi meglio prima Secondo me Questa è una cosa È Pro sbagliata Che c'è spesso Anche in In Italia Cioè Il discorso Che Quando Cioè È come Il bodybuilder Deve essere bodybuilder Tutto l'anno E secondo la concezione Praticamente Devi essere tirato Tutto l'anno No E te Fede Non le dite un po' Queste cose E che stiamo a parlare No Io non lo so In Italia Non Ve la metto così In bulk Non ti devi sporcare Cioè Devi essere tirato in bulk Non devi salire Non troppo almeno Ma che Ma perché Dipende dal livello Dell'atleta Cioè Nel senso Allora Un Secondo me È un Un neofita Chi ha tanto margine Di crescita Deve farsi le off Belle spinte Invece Chi ha Per il semplice fatto Che comunque È già Un atleta Davvero avanzato E comunque Non ha Questi grossi Margini Di crescita Non mi spingerei Ma Più altro Per un discorso Salutistico Sì Concordo Per non avere Un impatto Sulla pressione Eccessivo Per comunque Mantenere I Maker Della salute Sotto controllo Solo Concordo Lì però Come diceva Ludo Come diceva Ludo Anche nei video Devi trovare Comunque Il tuo set point Se il tuo set point In off È del 12-13% Che ti fa star bene Tu devi stare A quel set point Lì Che comunque Ti permette Di avere Un ottima libido Di avere Un Meno stressor Mentali Di star bene A 360 gradi Devi lavorare In quella direzione Guarda Posso dire Io aggiungerei una cosa Wow Io aggiungerei una cosa Mi cascato il colpo Vai vai Il discorso Secondo me È anche il fatto Che È quasi più conveniente Sporcarsi Un pochino Di più Piuttosto che Rimanere Un pochino Più tirato In off season Cioè se uno Deve decidere Se rimanere Un pochino Più tirato O magari Sporcarsi Un pochino Preferire Sporcarmi Piuttosto che Rimanere Proprio Schifre Io continuo a dire Una cosa Ragazzi Cioè Se vi sporcate Cioè Quando scendete Togliere grasso È relativamente Facile Cioè Passare Cioè Soprattutto se hai fatto Un off season Spinta Ok Tu hai guadagnato Metti conto Numeri a caso Ok Hai messo 5 kg in più Di grasso Rispetto all'off season Che avresti fatto Ma quei 5 kg Con il miglioramento Che hai avuto Di performance Con la costruzione Muscolare Che hai avuto Con la situazione Fisiologica Di proprio Di corpo In completa Fisiologia Ma vanno via Così Anche perché Poi Questa è una cosa Che avevo sviluppato Graficamente E devo riportare In un video Praticamente Una persona normale Quando Ingrassa E dimagrisce Cioè quando sale E scende di calorie Arriva qua E scende qua Arriva qua E scende qua Ok Arriva in un punto E torna al punto di prima Perché non ha l'input Del resistance training Quindi sia massa muscolare Che grassa Fanno la stessa traiettoria Ok Quando una persona Si allena con il resistance training Che succede? Che quando sale La massa grassa Sale poco E la muscolare Sale tanto È molto più pendente Quando scende La massa muscolare Scende tanto E quella Scusa La massa grassa Scende tanto E quella muscolare Scende poco Se non niente Se sviluppi questo grafico E fai la comparazione Tra un'estremizzazione Quindi spingo molto Con le calorie E spingo meno Con le calorie Sempre rientrando In concetti Di antagonismo Tra stessuto muscolare Adiposo Ottimale Quindi non vado A sputtanare La sensibilità insulinica Non vado a creare Stress ossidativo Eccetera Quindi un concetto Di fisiologia Quindi spingo Con le calorie In funzione di quello Che mi è richiesto Dal corpo In funzione Dello stato di salute Se lo estremizzi Il risultato finale È che enfatizzi Questo processo Quindi ti allontani Molto di più Da quello che succede Nella persona sedentaria E quindi alla fine Hai guadagnato più muscolo Hai perso più grasso Ok Questo è Ti ripeto È ovviamente Uno sviluppo grafico Che non tiene conto Di molti fattori Per cui il punto di base È che Devi stare in una situazione Fisiologica Sì ma ritorna tutto È certo È certo Il discorso che hai fatto È molto Tra virgolette Diciamo Tecnico Ma in realtà Se vai in palestra E ti alleni Te ne rendi proprio conto Di quello che te ne ha detto Sì Naturalmente E credo che sia Lo stesso antico discorso Di quando uno parla Un attimino del body shaming Che secondo me È sempre quello Sì Sì Sontanto sempre là Cioè ma Per quale motivo Tu a una persona Ti dovresti dire No però A Moist Cioè Stand of season Ti si è appannato Stavi meglio prima Cioè no In realtà Non stavo meglio prima Io prima stavo Mori dentro Sì Perché comunque In una situazione In cui Le calorie erano basse Il caldo era alto Lo stress comunque Era parecchio Dormivo poco Questo non conta Guarda Fede Il discorso è che si vende Il discorso è che si vende Una cazzo di illusione Io vi posso assicurare qua Che il fisico Che su Instagram O dai guru Dell'in bulk È considerato un fisico Accettabile Per il bulk È un fisico Che una persona Di media Salvo casi particolari Eccetera Però una persona Non vive bene Cioè io ve lo posso assicurare Perché ne ho visti gli atleti Ne ho visti tanti Ne ho seguiti tanti E a quella fisicità La persona Non sta in fisiologia Ve lo posso assicurare Quindi poi It's up to you Cioè Scegli te Vuoi vivere Depresso Con la libido Che è depressa Con poche energie Mentalmente Tired Mentalmente stanco Eccetera Pur di avere quel fisico A me Non togli niente Fallo Magari c'hai un bel fisico Mi piace pure da vedere Mi dà motivazione Quello che ti pare Fallo Cazzi tuoi però Però io come divulgatore Ho la responsabilità Di dirti che Dal mio punto di vista È una vita di merda Cioè io Diecimila volte Stocco in sporco In off season Però cazzo Quando mi alleno spingo Però cazzo sto bene Vivo la vita Cioè Sì E le posto le foto Le posto i video Me frega un cazzo Le posto Che la gente Cioè La gente veda Quello che stai facendo anche te Molto bene Cioè La gente veda come funziona Io ho zero Vabbè Voi nel senso Se Se mi segui su Instagram Deve lo vedere Insomma Super trasparente In tutto In tutto Poi Esatto Qualsiasi domanda viene fatta Io rispondo subito Non c'è alcun tipo di problema Ma questo è quello che dovrebbe succedere Cioè Il discorso è proprio questo Noi qua Per me è una cosa Veramente normale Perché fondamentalmente L'Inghilterra Abita per tutto così Cioè Tutti gli atleti Sono veramente così Ti dicono Tutto quello che fanno E ti fanno vedere Come stanno Sempre Cioè le foto arrivano Dall'off season Come arrivano Dalla prep Come arrivano Dal pre contest Come arrivano Dal rebound Da tutti i momenti Tutti i momenti Ci stanno Atleti In Inghilterra Che loro Pien off season Foto Col perizzo Ma da gara Punto e basta Così se fanno le foto Così se fanno Sì sì Il cura non è striato Beh Che vuol dire No c'hai la panza C'hai la ciccetta ai bordi Sti cazzi Beh Vieni in sala Anche a livello atletico E chi comunque Si gode meglio L'off season Anche chi Ha migliori risultati Poi in Sul palco Perché comunque Vive l'off season Reramente Sì Io Anche perché poi Onestamente Cioè I casi Di chi rimane davvero A una A una BF A una sola cifra Tutto l'anno Io Non li vedo Migliorare uno E poi davvero Non penso Che abbiano una vita Così serena Ma anche Anche sotto il punto di vista Parlo solamente Della libido Anche sotto il punto di vista Dell'umore Sotto il punto di vista Come parlavamo prima Dello stress Cioè Assolutamente Quello impatta Sullo stress Sì 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 Mi è sempre meglio Il pallino Quando mi scoppiano Le emboli a me Cioè Ma porca puttana Ma te Sei mandato Da un giocatore Dei rugby E gli hai detto Oh ma lo sai Quasi quasi Stai meglio Stai meglio Prima Ma che cacchio Stai meglio Ma tu sei andato Da uno Che fa Kickboxing Che fa MMA E io Dici ma Quando fai Il taglio Del peso Stai meglio Prima Palla Prova Perché comunque No ma nel nostro paese Comunque C'è molto L'immagine Conta Cioè Il preconcetto Dell'immagine È Tanto Ricostato Sì ma questo Non succede Nemmeno in Italia Capito qual è il discorso Cioè il bodybuilding Viene preso come in agosto Come in gioco Io gioco Allora Io faccio bodybuilding Ma tu giochi Tu è in palestra Dovresti sollevare Siccome sullevi i pesi Dovresti essere Cioè Super Super Striated Super Come cacchio si dice Tirato e grosso Grosso e tirato Dovresti essere in condizione Tutto il tempo Perché tu guarda E fa il culo Alzi i pesi Tonnellate i pesi E qua e là Manco c'è il fisico No Cioè non funziona così Se tu non sai Di quello che stai a parlare Vatti ad informare prima E poi dopo Vedi come funzionano le cose Perché Non ci sta nessuna differenza Tra un giocatore De rugby E uno che fa bodybuilding In off season Niente eh Dal punto di vista Non ti parlo Dal punto di vista Tecnico Dove il giocatore De rugby Fa degli allenamenti Prettamente tecnici Come Chi fa bodybuilder Comunque Fa i suoi round De posing Fondamentalmente Guarda Il discorso In realtà Fede è che Si dice Bodybuilding è uno sport estetico Però Bodybuilding è uno sport estetico In season Off season Non è uno sport estetico È uno sport dove devi fare l'atleta Poi logico Imposti l'allenamento In base all'estetica Quindi punti più sugli stretti carenti Eccetera Però Tolta Questo discorso proprio di periodizzazione Tu come atleta Devi fare l'atleta Quindi non è più estetica Cioè tu vai e spingi Che metti un chilo di grasso Un chilo e meno di grasso Non ti cambia un cazzo Perché tu Ovviamente non devi ricercarlo Non è più mangio meglio è Però devi mangiare quello che ti serve Per fare l'atleta Punto Tutto quello che mangi di meno È margini che ti perdi Però qua è proprio La meta Perché In Italia Parlo Italia Perché vedo l'esempio qua Il discorso L'esempio che ha fatto il ragazzo Il discorso è che Comunque La meta è Io devo avere Come mettere riferimento Allo specchio Io devo piacermi E di conseguenza Devo piacere anche gli altri 365 giorni l'anno Giusto L'atleta invece Non si comporta così Chi vuole migliorare Nel bodybuilding Deve migliorare in sala Non Poi lo specchio È una conseguenza Il palco migliorato È una conseguenza Ma non puoi usare Come metodo di giudizio 365 giorni l'anno Lo specchio Devi usare L'allenamento È per quello che Da noi L'allenamento Passa in secondo piano Perché Il log Il log È una cosa nerd È una cosa nerd Ok Ma è una cosa che funziona Dannatamente Il progresso Che tu fai Da allenamento Come puoi saperlo Lo sai perché Hai cambiato molecola Lo sai perché Hai diminuito il carbon Hai aumentato il carbon No Lo sai se Cazzo Fai una serie di Hackspot in più Se Aumenti Leggermente il volume Se aumenti Il tonnellaggio Quello è Sì 100% Hai la BF Al 12 O al 15 O al 18 Che tu hai la BF All'8 All'8 Questa è anche una domanda Che Cioè Questa è anche una cosa Che mi è stata detta No Su un DM Ho risposto In questa maniera Lo faccio pubblicamente qua Ragà Siete voi Le nuove leve Del bodybuilding In Italia Cioè Siete voi Che dovete far capire Come funziona Il bodybuilding Se una persona Viene a voi E vi dice Ah ma perché Sei così sporco Tu gli dici Perché faccio il bodybuilder Perché è così che si fa Sì È così che si fa Siete voi Che dovete far capire Alle persone Quello che state facendo Non potete pensare Di punto preso Ah tu no Non mi capisci Io rimango chiuso Nella mia bolla Vaffa schifo No Fateglielo capire Quando una persona Dice Ma perché Te hai messo Te sei sporcato Perché faccio un po' di building Questa è la risposta Sì Perché faccio un po' di building Così si fa Così si fa Punto Non si rimane in shredder Tutto l'anno Non si rimane in condizione Tutto l'anno Perché sennò non mi chioro Io sono un bodybuilder Se non te sta bene Se vuoi saperne di più Riguardante questa disciplina Va a vedere come si fa Informati Se non te ne frega niente Mi dispiace per te Ma poi ragazzi Davvero Prendiamo l'esempio Del top Coleman Faceva Quattro mesi Post Olimpia A non allenarsi Non allenarsi Cioè Io immagino Anche Fisicamente Cambia Gli interessava No Lui Saliva Vinceva Taccava Si ripreparava Saliva E vinceva Quello è essere atleta Se tu vuoi fare l'influencer È un altro discorso Se tu vuoi fare l'atleta Devi comportarti come tale Deve essere in forma Sul palco Punto E nessuno ti dirà Mai un cazzo Perché tu sali Vince e te ne vai Punto E fatela E fatela come prova Ragazzi Fatela Cercatevi Magari La prossima off-season Sporcatevi un po' Anzi Non abbiate paura Di sporcarvi Vedrete poi Date un anno Di prova Provate a fare qualcosa Di differente Per una volta Non abbiate paura Di sporcarvi Io non vi dico Di sporcarvi Io vi dico Non abbiate paura Di sporcarvi Esatto Fatti un anno In quella maniera Rifatti una prep E poi vediamo Che cacchio Corchi sul palco Mano sul fuoco Proprio così Easy Perché è così Che funziona qua Tutti quanti Tutti quanti Dai natural Alliananza Non ce ne sta uno Che sta squartato Tutto l'anno Vatti a vedere Kifi West Vatti a vedere AJ Morris AJ Morris C'ha due guange Adesso Qui si è brancastoro Sì C'è le chiando Capito Rosso Paunazzo Kifi Uguale Che sono i due più Secondo me I due migliori Da cui ti puoi prendere Ma Se vai a vedere Tutti quanti Gli atleti Che c'hanno loro Tutti Sì perché poi loro Non Cioè Sono quelli che arrivano Però noi adesso Io sto in ultraflex Quindi mi indicizza Tutti quelli che stanno Nelle ultraflex In UK E i ragazzi Natural Pure quei due Spagnoli Che erano venuti Cioè Regà So così Mi spiace dirlo Ma A noi sembra Che poi ci sembra Che ce l'hai con l'Italia Però veramente L'Italia è È proprio Outsider Da questo punto di vista Io non so perché Si sono insediati Dei trend Che nessun altro Porte nel mondo Ci sono Perché fondamentalmente Siamo solamente Siamo solamente Che vogliamo Che vogliamo fare Tutto l'anno Sì 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 E partiamo Dall'occhialetto Da sole Al capello Pettinato Tutto il tempo Alla scarpetta Indonata Con la sciarpa Questa magari Ce la parliamo Nella prossima diretta Perché io sto sviluppando Un po' delle idee Perché secondo me Il discorso è un po' diverso Però vabbè Ce lo vediamo nella prossima Perché abbiamo superato Le due ore Quindi abbiamo veramente Fatto sgravato E ragazzi Io vi ringrazio Per il tempo E niente Ci diamo appuntamento Per la prossima settimana Per altre belle chiacchiere Ok Vai Ciao ragazzi Ciao